Buon pomeriggio a tutti, ricominciamo i lavori. Prima di ricominciare vorrei ringraziare Fulvio per questo gradito invito, ma in questo momento non lo vedo davanti a me, eccolo là che compare, per questa bellissima location, per l'ottimo banchetto che ci è stato offerto, che ci farà fare fatica a concentrarci, ma la bravura dei nostri relatori invece sveglia la nostra attenzione. La sessione che andiamo ad aprire riguarda la medicina respiratoria, il primo dei nostri relatori è il dottor Giancarlo Antonucci che ci parlerà dell'approccio al paziente con bpc oriacutizzata, patologia che mi fa venire in mente i discorsi del direttore generale di questa mattina sull'interazione ospedale-territorio perché è una patologia che quanto mai si presta a una gestione a tutto tondo a 360 gradi che parte molto spesso dal nostro pronto soccorso ma che poi finisce a una gestione lunga e faticosa sul territorio che dura tanti anni. Prego Giancarlo. Grazie Fiammetta, grazie ai moderatori, grazie a Fulvio per l'invito, non lo vedo ma lo ringrazio di cuore. Io non vedo le mie diapositive sullo schermo ma non voglio farvi perdere tempo. Non ho conflitti di interesse sull'argomento. Comincerò subito col mettere le mani un pochettino avanti perché i bisogni non soddisfatti nella riacutizzazione della bronchite cronica sono molti e riguardano un po' tutte le parti gli argomenti di questa trattazione, dalla terapia alla sua eterogeneità nella presentazione e perfino la difficoltà nella sua definizione stessa. E questo è in stretto contrasto con tutte le altre patologie croniche che riacutizzano come per esempio la cardiopatia ischemica o lo scompenso cardiaco che in questi ultimi 10-20 anni hanno prodotto un sacco di novità, di informazioni e di nuovi farmaci. Qui l'unico dato forse interessante sta proprio nella ventilazione non invasiva. Bene, come affronterò questi bisogni soddisfatti con una agenda in cinque punti? E il primo punto è proprio che cos'è e cosa può averla scatenata. Andiamo alla definizione Gold che ci dice che fa parte della storia naturale del bronchitico cronico, la riacutizzazione, questa non è una buona notizia, e può essere definita come un peggioramento dei sintomi di tipo respiratorio, quindi la dispenea, l'espettorato, la quantità dell'espettorato, la tosse, che ha bisogno di un'aggiunta di terapia. Questo non ci dice niente sulla fisiopatologia, non ci dice niente sulle altre possibili cause di peggioramento della dispnea che questi pazienti spesso hanno e di questo Gold chiaramente ne è perfettamente consapevole. Allora, una delle ipotesi per cui un paziente può riacutizzare è che ci sia un'infezione dall'esterno. Una causa che può essere batterica, virale o anche di tipo inquinamento atmosferico, altro non fa che dare una cascata di mediatori infiammatori con un danno del tessuto. Questo fa partire un peggioramento dell'ostruzione, il mismatch, ventilazione per fusione, l'air trapping, che è un meccanismo molto forte di dispnea e quindi i sintomi che peggiorano acutamente. A sostegno di tutto questo c'è che in effetti noi identifichiamo spesso dei germi in questi pazienti nell'espettorato e c'è una stagionalità complessivamente per le riacutizzazioni, una stagionalità che riguarda i mesi freddi. Non è così per tutte le riacutizzazioni. Un altro dato interessantissimo è che nei periodi di lockdown che abbiamo avuto non solo in Italia ma anche in Inghilterra, vedete, i ricoveri per riacutizzazione di BPCO sono diminuiti, dimezzati, addirittura crollati in alcune situazioni. Questa è una cosa che mi aveva molto stupito allora e da un'altra parte anche rincuorato perché se fossero arrivati anche i BPCO riacutizzati in quel periodo avremmo avuto dei problemi decisamente più alti. Ma questa cosa qui è stata interpretata in molti modi e una delle spiegazioni, oltre al fatto che gli ospedali venivano probabilmente evitati, ma la spiegazione più forte è che tutte le misure di contenimento del contagio in qualche modo avevano in qualche modo protetto anche i bronchiti ciclonici da una contaminazione esterna che poteva essere un virus, un altro virus, un germe, un battero. Ma esiste anche un altro punto di vista. C'è chi sostiene, e questa è un'ipotesi altrettanto valida, che il soggetto con una bronchite cronica stabile ha in sé una disbiosi, una minore diversità del patrimonio batterico che è più ricco di saprofitti nel soggetto sano e più ricco di patogeni nel bronchitico cronico e nel bronchitico cronico più severo abbiamo quei gemmi che conosciamo bene, l'hemmophilus, la molaxella, pseudomonas nelle forme più gravi, ma anche scherichia coli e streptococco. Questa condizione che modifica il microbiota in qualche modo può scatenare un'infiammazione locale e peggiorare l'ostruzione. Tutto questo con una risposta assolutamente individuale del soggetto. Non tutti i soggetti rispondono allo stesso modo e questo ci riporta ancora al Covid. In alcuni soggetti questa suscettibilità è particolarmente forte e quindi si scatena la riacutizzazione acuta. Difficile dire se il germe stava all'interno, era già all'interno oppure se proveniva dall'esterno. Cosa c'è contro questa ipotesi? Beh, non tutte le riacutizzazioni sono di questo tipo. Gli studi non sono riusciti a dimostrare in maniera chiara che ci sono dei soggetti che sono più suscettibili e che questa suscettibilità in realtà provochi la riacutizzazione e soprattutto la rilevanza clinica di tutto questo non è chiara. Cioè noi non sappiamo come modificare il microbiota anche se probabilmente alcuni studi ci dicono che gli antibiotici vanno usati con un certo criterio che la pulizia, la pulizia del cavo orale può essere importante che anche dare dei probiotici intestinali possa essere utile. Se andiamo a vedere invece gli studi epidemiologici, e ce n'è tanti, arriviamo alla conclusione effettivamente che non solo la bronchitica cronica severa favorisce la riacutizzazione ma soprattutto aver avuto già una riacutizzazione favorisce la riacutizzazione. La riacutizzazione è un segno di attività più che di severità della malattia e naturalmente le comorbidità sono molto importanti come potete vedere. Altri studi epidemiologici un po' meno ci dicono che ci sono altri fattori come l'eosinofilia che hanno il loro peso, l'età avanzata, la sarcopenia, la riduzione dell'attività fisica, il fumo, la cachesia ma anche i cambiamenti climatici vogliamo le temperature particolarmente fredde, degli sbalzi di temperatura, dicono i catastrofisti che avremo più riacutizzazioni di BPCO in futuro. Quindi il dato forte che viene fuori dall'epidemiologia che vorrei che ci portassimo a casa, che le riacutizzazioni di BPCO sono molto eterogenee. Qualcuno ha proposto 5 cluster, quello infettivo batterico che è di galunga più frequente, in cui c'è un spettorato puro lento, c'è molta tosse, ci possono essere dei marcatori come interlochina 1 beta. Le infezioni virali, altro e tanto, ma più come fattore di rischio per l'infezione batterica. C'è un cluster a predominanza eosinofilica che non è così raro, al 20% o anche fino al 40%, sono soprattutto gli osinofili del sangue, quelli che vengono misurati. E c'è la forma paucinfiammatoria. Le forme paucinfiammatorie probabilmente le comorbidità hanno una grande importanza. Queste differenze biologiche che sono importanti sono indistinguibili dal punto di vista clinico il più delle volte e purtroppo al momento, anche se sono tutto sommato ben studiate, ci aiutano poco per la prevenzione, una identificazione precoce e la terapia. Che insidie può nascondere la bronchite cronica? Chiaramente sotto un paziente con la bronchite cronica si può nascondere qualsiasi cosa. Qualcuno ha detto che la bronchite cronica obstruttiva è la parte del polmone alla comorbidità. Questo è chiaro perché in un paziente di questo tipo, oltre alla bronchite cronica diacutizzata, potrete avere un'infezione, attrazioni elettrolittiche, il delirium, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto riportarvi questo studio spagnolo che è uno studio osservazionale di una decina d'anni, in cui hanno seguito circa 70.000 pazienti con la bronchite cronica. Questi hanno avuto delle riacutizzazioni, due, tre riacutizzazioni in questi dieci anni. Circa un terzo di questi riacutizzava. Un terzo di quelli che riacutizzavano avevano veramente una riacutizzazione di bronchite cronica obstruttiva. Gli altri erano ricoverati per altri motivi, soprattutto. E anche nei soggetti che avevano, alla fine, erano dimessi con la diagnosi di riacutizzazione di BPCO, c'era una prevalenza all'insufficienza cardiaca del 50%, di polmonite del 26%. E avanti la fibrillazione atriale, l'anemia, l'embolia polmonare. E quindi non è tanto importante forse chiederci se c'è scomprenso cardiaco, riacutizzazione di BPCO, ma prendere in considerazione che molto spesso il paziente che abbiamo davanti ha entrambe le cose. Ha entrambe le cose a cominciare da una fibrillazione atriale, da un flutter, come in questo caso. Questo ci darà dei problemi quando dovremmo incominciare a pensare all'uso, per esempio, dei betabloccanti, che comunque sono indicati in queste circostanze. Guardate poi questo studio osservazionale che è una sottoanalisi dell'impact, di più forse ci parla di là dopo, un retapara, in cui si vede come nel momento della riacutizzazione il soggetto ha un rischio di avere un evento cardiovascolare di 20 volte maggiore di quando è stabile. E questo rischio scende dopo un mese ma è comunque intorno a 7-8 volte e si stabilizza soltanto dopo ben tre mesi. Interessante poi è il caso dell'embolia polmonare. Come ben sapete bronchite cronica significa fare diagnosi di embolia polmonare. Facciamo più diagnosi di embolia polmonare che di trombosi venosa profonda, probabilmente perché c'è chiaramente un sospetto d'organo. È anche possibile che siano trombi in situ, come abbiamo imparato anche con il Covid. Questi autori fanno riferimento a due studi. Il primo osservazionale e ci dicono che c'è una prevalenza nelle riacutizzazioni di circa un 6 per cento di embolia polmonare e facendo riferimento a questo studio invece di intervento ci dicono anche che fare uno screening con il didimero e se non è basso fare un attacca, un angiotac con mezzo di contrasto a tutti non paga ed è una cosa dispendiosa che non riduce la mortalità. Quindi è una cosa che non andrebbe fatta. Che cosa ci guida? La clinica. Se il paziente si ricovera con un cluster atipico, cioè non infiammatorio e che magari ha un emogas analisi che non sta andando verso un'ipercapnia ma verso una calosi respiratoria, quello è un paziente che potrebbe avere un embolia polmonare e così è il paziente che non ha una risposta clinica dopo qualche giorno che sta facendo una terapia broncodilatatore, steroidea e non migliora, quello è un paziente che potrebbe avere un embolia polmonare. A quel punto potrebbe partire il work up per la ricerca dell'embolia polmonare. Che cosa fare come approccio diagnostica? Quindi sono due cose. La prima cosa è fare la diagnosi differenziale, scompenso cardiaco, polmonite, embolia polmonare soprattutto. La seconda cosa da fare è stratificare il rischio di quel paziente che abbiamo davanti, cioè capire quanto sia grave il paziente e soprattutto dove lo devo mettere. Siamo in ospedale, il paziente è arrivato in pronto soccorso. La prima cosa da sapere è dove deve stare come saturazione di ossigeno. questi pazienti hanno bisogno di ossigeno. Se noi gli diamo ossigeno dobbiamo sapere come deve essere la sua saturazione e la saturazione migliore in questi soggetti, lo sappiamo bene quasi tutti ormai, è 88-92%. Questo è vero non solo nell'ipercaplico, in cui c'è una riduzione della mortalità, se sta lì, ma anche nel normocaplico, a dimostrare come questi soggetti possono comunque modificare il loro quadro emogas analitico nel tempo. 88-92%. Questo è utile anche perché Gold e UpToDate, la riporta tale quale, fa una stratificazione del rischio di morire. E nella stratificazione del rischio di morire, quelli che sono life-threatening, quelli che rischiano la morte, in realtà sono quelli che non solo hanno una grande fatica respiratoria, più di 30 atti respiratori, l'uso dei muscoli accessori, hanno il delirium. Sono anche quelli che hanno bisogno di più di 40% di fazione ispirata di ossigeno con la Venturi per rimanere qua dentro, 88-92%. E questo può già essere pericoloso perché può provocare ipercapania, cioè una pH 2 che è sopra il 60 aumenta e un acidosi, un pH sotto 7,25. Questa è life-threatening. Quando però UpToDate va a indicare la B-level, la ventilazione non invasiva, le cose cambiano. Questo è il comportamento che bisognerebbe tenere quando il paziente si presenta, se il rianimatore non ve lo intuba subito. È un paziente che può avere una fatica respiratoria molto forte, l'abbiamo detto prima, che può avere un stato mentale alterato. Fate lega ed è sufficiente avere un pH sotto 7,35 e avere un pH CO2 sopra uguale a 45. Quindi il paziente ha un odore di ipercapnia per avere una indicazione alla ventilazione non invasiva. Cioè ci vuole molto poco dal punto di vista emogas analitico. Quindi se non ci sono le controindicazioni, quelle solite, il paziente deve andare alla NIV. Bisogna controllare naturalmente che vada tutto bene, questo di solito si capisce entro un'ora, cioè se il paziente tende a essere stabile o quantomeno a migliorare. Se non fallisce può continuare a fare la NIV e bisogna metterlo nel posto dove si faccia la NIV. Il problema è che purtroppo il falimento è possibile. C'è un rischio di falimento che va dal 5 al 60%. Questa variabilità assurda è dovuta al fatto che in letteratura c'è di tutto. La NIV si fa in posti molto diversi effettivamente e conta molto chi fa la NIV e dove. Le indicazioni per essere ricoverati in una rianimazione variano molto a seconda degli ospedali. Una delle cose che sta sempre più venendo fuori è che in rianimazione gli anziani non entrano. Dopo gli 80-80 anni è difficilissimo far entrare un anziano in rianimazione. Questo si sapeva già nel 2006. La probabilità che un paziente entri in rianimazione è bassa, che non entri in rianimazione è 5-6 volte se è un paziente medico invece che chirurgico. I chirurgici ci entri molto più facilmente. Di 4 volte se ha più di 85 anni, tanto, e chiaramente se non è autosufficiente. Tutto questo perché? Perché gli animatori chiaramente hanno il terrore della cachesia. Un paziente che si presenta già cacchettico, sarcopenico, è un paziente che se lo intubi dopo 3-4 giorni ha perso completamente quello che ha di massa muscolare e svezzare un paziente di questo tipo è una cosa praticamente impossibile. Questi sono pazienti che finiscono in rianimazione per periodi lunghi e non si ottiene nulla. E quindi bisogna trovare un posto dove farlo fuori queste cose. E' un posto dove fare la ventilazione non invasiva, i primi posti che sono stati proposti, li hanno proposti i pneumologi. Ultimamente, e neanche tanto ultimamente, ci sono le aree critiche di medicina, le subintensive mediche, i letti di subintensiva nei reparti. Questi costano di meno delle rianimazioni abbondantemente e sono sicuramente efficaci una volta che ci siano dei monitor, una volta che ci sia un personale che sa quello che sta facendo chiaramente. Le terapie sono quelle solite, qui non mi perdo. Le terapie sono il salbutanolo con lo spacer, bisogna essere molto aggressivi all'inizio, una, quattro aspirazioni ogni ora, oppure il nebulizzatore. Noi in ospedale usiamo il nebulizzatore, oltre al salbutanolo ci puoi mettere il becometasone, l'ipatropio. Meglio usare l'aria, se ce l'avete, l'aria compressa invece che l'ossigeno. I cotisonici sistemici vanno benissimo, evidenze di tipo A, dosi non alte, per 5-14 giorni non si fa tapering. L'antibiotico, la cosa importante è escludere la polmonite e la sepsi, certo. Pensare a che ci possa essere pseudomonas, che tipo di espettorato c'è. C'era già prima pseudomonas, ci sono le bronchiectasie, è un paziente ostruttivo severo. In quel caso lì, e anche se non lo sospettate, fate comunque un espettorato. Se sospettiamo pseudomonas, chiaramente ci vogliono dei farmaci più efficaci, come per esempio piperacilina da zubatano. Il supporto respiratorio. Poche parole per dire che noi siamo in grado di modificare tante cose. Siamo in grado di dare ossigeno, in grandi quantità ossigeno, 50-80% con l'avventuri nell'insufficienza respiratoria di tipo 1, ma nell'insufficienza respiratoria di tipo 2 per capplica non potremo andare oltre il 24-40%. Siamo in grado di rebolare il flusso, i litri al minuto, e dare un alto flusso, una cosa che può essere molto utile, con queste cannule nasali umidificate a temperatura controllata intorno ai 37, con questi apparecchi stand alone. Alto flusso significa lavare la CO2 dalle alte vie respiratorie, quindi può essere indicato anche nell'insufficienza respiratoria di tipo 2. La CPAP non è idonea perché purtroppo dà delle frazioni ispirate alte. Il tipo di ventilazione ideale in questi pazienti chiaramente è la NIV, con una pressione di supporto. Noi aiutiamo la ventilazione del paziente cominciando con una pressione di supporto intorno ai 5-15. Possiamo fare anche di più, regolare gli atti respiratori minimi, regolare la sensibilità del trigger, e andare da forme più controllate ad alte più supportate, ma sostanzialmente questo facciamo. E i dati più forti riguardano proprio la NIV. Questi sono studi tutti fatti in animazione, ma che dicono che in questi soggetti con la bronchitica cronica forse la cosa migliore è fare una ventilazione non invasiva piuttosto che intubare. E quindi dal punto di vista pratico questo è lo stato dell'arte. C'è un paziente con una reacutizzazione di BPCO, ha un'insufficienza respiratoria importante, non è ipercappnico, c'è solo l'iposemia, beh si può fare un'ossigenoterapia ad alto flusso con la cannula nasale. E' ipercappnico? Facciamo la NIV, assolutamente, se questo diventa ipercappnico finisce a fare la NIV. Viene tollerata? Sì, bene, andiamo avanti, quando sarà il momento di svezzarlo va bene, anche una cannula nasale. Non la tollera? Proviamo a fare un'ossigenoterapia ad alto flusso, fallisce, consideriamo la possibilità di intubarlo, meglio saperlo prima di ritrovarci tardi a vedere la necessità di intubarlo, per lo svezzamento vanno bene sia la NIV che l'ossigenoterapia ad alto flusso. Questa è solo arte, ci vorrebbero forse più trial, forse potremmo essere noi a fare dei trial, visto che adesso queste cose si fanno in medicina interna in gran parte. Quinto punto, arrivederci, perché? Perché uno su quattro di questi pazienti entro un mese si riricovera. E questo lo sappiamo bene perché si innesca questa spirale che poi alla fine non solo porta a altre riacutizzazioni ma alla mortalità. Le cose da fare sono tante, sono cose che vanno però organizzate nel tempo. una delle cose più importanti di cui ci parlerà Umbretta adesso è giusto, è proprio questo, usare la combinazione giusta di farmaci del paziente giusto al momento giusto. E questo va fatto possibilmente con degli ambulatori della cronicità. È importante rivedere questi pazienti un mese dopo, due, tre mesi dopo. Grazie per l'attenzione. Grazie, anche da parte mia un ringraziamento a Fulvio per essere qua oggi, un grazie a tutti voi che siete nel dopopranzo con noi. La discussione la facciamo alla fine con i nostri discussanti che sono qua. Dalla Liguria alla Toscana abbiamo due, un bel passaggio. A parlarci per prima è Umbretta Para, medicina interna Careggi Firenze e referente nazionale dei giovani. Devo dire da lei sul respiratorio ho imparato non poche cose. Grazie Umbretta. Buon pomeriggio a tutti, ringraziamento a Fulvio per il gradito invito. Adesso entriamo in un argomento che è in continuo fermento nella recente letteratura, cioè quando intraprendere un trattamento, una duplice terapia inalatoria o quando fare uno step up a triplice terapia. Vediamo un po' se va avanti. Ok, questi sono i miei conflitti di interesse. La BPCO sappiamo che è una patologia estremamente eterogenea ed è caratterizzata da una grande variabilità sia fisiopatologica che clinica. E quindi quando andiamo a intraprendere un trattamento per la BPCO sicuramente dobbiamo tener conto sia dei sintomi che delle riacutizzazioni. Questo nell'ottica di andare a migliorare lo stato di salute e di ridurre la mortalità. Quindi la prima cosa che affronteremo è perché considerare i sintomi. Perché noi sappiamo che i sintomi, il controllo dei sintomi è importantissimo per andare ad agire sulla qualità di vita, che in una patologia cronica è un punto fondamentale. Ma sappiamo anche che i sintomi, in particolar modo la dispnea, sono degli accurati predittori di sopravvivenza. Vediamo in questo studio, infatti, come nelle Kaplan-Meyer alla vostra sinistra, vedete, rappresentano la funzionalità respiratoria. Vedete come le forbici delle Kaplan-Meyer sono molto più strette tra di loro. A destra, invece, vedete come le forbici tra le Kaplan-Meyer della sopravvivenza si allargano moltissimo all'aumentare del grado di dispnea. Sappiamo che la terapia carne della BPCO, nel controllo dei sintomi, è sicuramente la terapia broncodilatatoria long acting. Quindi con gli antimuscarini CILAMA e con i beta-2 adrenergici LABA. Sappiamo che la terapia broncodilatatoria è il cardine della BPCO in tutti gli stadi di gravità della malattia. E quando andiamo a valutare l'efficacia della terapia broncodilatatoria, noi non dobbiamo valutarla soltanto sulla base del miglioramento della funzionalità respiratoria e quindi della capacità di ridurre l'iperinflazione del malato. Ma anche considerando altri parametri, quindi il controllo dei sintomi, la rapidità con cui questi farmaci portano ad un controllo dei sintomi, il miglioramento dell'esercizio fisico. E attenzione, la terapia di combinazione tra LABA e LAMA aumenta, migliora la funzionalità polmonare e riduce sintomi rispetto alla monoterapia. Questo in parte ha anche una spiegazione farmacologica e fisiopatologica, perché noi sappiamo che la combinazione in un'unica formulazione di LABA e LAMA ha un effetto sinergico, perché LABA e LAMA vanno ad agire a livello della muscolatura endobronchiale delle medie e piccole vie aeree in maniera sinergica, attivando a vicenda i rispettivi recettori e quindi questo ha anche un risvolto clinico importante. Qui vi ho portato anche però le evidenze della letteratura che ci dicono questo. Questo è lo studio IMAX, che è uno studio molto importante nella storia della BPCO, che è un trial randomizzato controllato condotto su circa 2400 pazienti, che ci fa vedere proprio come la terapia duplice con LABA-LAMA, in questo caso era un omiclidinio bilanterolo, fosse più efficace rispetto alla monoterapia con LABA o con LAMA nel migliorare la funzionalità respiratoria e nel controllo dei sintomi. E un dato interessante che è emerso dallo studio IMAX è che il 30% dei pazienti erano pazienti con basso rischio di riacutizzazioni e che non facevano terapia inalatoria col corticosteroide, il 30% di questi pazienti era naif, cioè non faceva nessuna terapia. E quindi probabilmente questo suggerisce un maggior beneficio in quei pazienti che vengono trattati precocemente con l'associazione LABA-LAMA. Qui vediamo anche i risultati di una metanalisi. Le metanalisi sono diverse nel mondo della BPCO. Questa metanalisi conferma il dato di superiorità della duplice terapia broncodilatatoria LABA-LAMA rispetto alla monoterapia, però attenzione ad interpretare i dati delle metanalisi nella maniera giusta, perché qui, come vediamo negli studi della BPCO, i farmaci che vengono presi in esame, cioè i principi attivi, sono principi attivi diversi. E quindi non dobbiamo tirare delle conclusioni esageratamente, non dobbiamo pensare che siano i dati estremamente solidi, ma sicuramente confermano la superiorità della duplice rispetto alla monoterapia, ma sicuramente non ci possono dire quale duplice sia migliore di un'altra. Non possiamo arrivare a questa conclusione. Per quanto riguarda anche la sicurezza di una duplice terapia broncodilatatoria, anche qui la letteratura ci conforta. Qui vi ho riportato i dati di safety dello studio IMAX, li vedete nella tabella alla vostra sinistra, che ci fanno vedere bene come in realtà gli effetti collaterali legati alla duplice terapia inalatoria fossero sovrapponibili a quelli osservati nei due gruppi che facevano la monoterapia. E a destra vedete quelli che sono gli effetti collaterali principali delle duplice terapie broncodilatatorie riportati dagli studi registrativi che fondamentalmente sono sovrapponibili a quelli della monoterapia. Abbiamo visto perché è importante considerare i sintomi e come possiamo agire per controllare i sintomi del nostro paziente, migliorare la funzione respiratoria, ma perché dobbiamo considerare le reacutizzazioni? Lo abbiamo già visto nella relazione precedente. Ogni reacutizzazione è un evento importante nella storia naturale del paziente con BPCO perché dopo ogni reacutizzazione il paziente perde inesorabilmente funzionalità polmonare che non recupera. E le reacutizzazioni sono associate anche ad un aumento della mortalità. E attenzione, le reacutizzazioni sono associate anche ad un aumentato rischio di eventi cardiocerebri vascolari nel breve periodo. Questo è uno studio di CEST che ci fa vedere bene come i pazienti ricoverati per reacutizzazione di BPCO avessero un rischio elevato di andare incontro a infarto miocardico acuto entro i primi 5 giorni dalla reacutizzazione. e avessero anche un rischio aumentato di stroke, di ictus ischemico cerebrale fino a 80 giorni dopo la reacutizzazione. Quindi cosa comporta la reacutizzazione per il paziente? La spirale che vedevamo prima. Quindi lo avvolge in questa spirale che parte dal peggiorare la funzionalità respiratoria attraverso un peggioramento della sua qualità di vita e lo porta a un aumento di ospedalizzazioni che aumentano sempre di più fino ad un aumentato rischio di mortalità. Sicuramente uno strumento che abbiamo per andare ad agire a livello delle reacutizzazioni e prevenire le reacutizzazioni sono gli steroidi inalatori. Qui vi ho riportato uno studio molto importante, anche questo nella storia della BPCO che è lo studio Salford, è uno studio pragmatico condotto nella cittadina proprio di nome Salford. Gli studi pragmatici sono degli studi molto interessanti perché sono studi che ci permettono di andare a valutare l'efficacia di un trattamento in un contesto di real life. Quindi diciamo che non hanno quel bias di selezione che hanno i grandi trial clinici randomizzati controllati standard e quindi ci danno più una visione di quello che succede in un contesto più reale. Ma al tempo stesso però ci danno ovviamente dei dati meno solidi dal punto di vista statistico. Nello studio Salford vediamo che la duplice terapia con ICS e LABA era superiore nel ridurre le reacutizzazioni moderate e severe rispetto alla usual care. La usual care non era altro che la terapia che i pazienti, la terapia inalatoria che effettuavano i pazienti, che poteva essere un qualsiasi regime terapeutico inalatorio duplice o in monoterapia e con diversi device. Capite quindi anche poi la difficoltà nell'interpretazione in maniera solida dei dati perché comunque il gruppo di usual care era un gruppo che aveva un trattamento molto eterogeneo. Le linee guida quindi che cosa, le raccomandazioni gold che cosa ci dicono? Ci dicono quindi che noi dobbiamo assolutamente considerare di inserire in terapia uno steroide inalatorio quando ci sono, si verificano queste condizioni che voi vedete nel riquadro verde. Quindi sicuramente è mandatorio iniziare lo steroide inalatorio nel paziente asmatico o con un ACOS, quindi un overlap syndrome tra asma e BPCO, ma anche nel paziente con storia di riacutizzazione, di ospedalizzazione, scusate per riacutizzazione, o nel paziente frequente riacutizzatore, quindi che va incontro a due più riacutizzazioni l'anno, o nei pazienti che hanno una conta ematica degli osinofili superiori a 300. La letteratura recente in realtà sta molto ridimensionando il ruolo degli osinofili come guida alla terapia inalatoria steroidea. Qui vi ho riportato una sottoanalisi dello studio IMPACT che tra poco vedremo, che fa vedere bene come la terapia, i regimi di terapia con lo steroide inalatorio, che qui vediamo raffigurati dal colore azzurro e rosino, in questi pazienti, nei pazienti che facevano cortisone inalatorio, questo era più efficace nel ridurre le riacutizzazioni rispetto ai pazienti che facevano la duplice terapia broncodilatatrice senza lo steroide all'aumentare, l'efficacia aumentava all'aumentare dei valori degli osinofili. Ma nei pazienti che avevano una riacutizzazione moderata o severa, che sono gli ultimi due riquadri, il B e il C, l'efficacia dei regimi contenenti steroide inalatorio si verificava già per valori di osinofili più bassi, quindi già tra 100 e 300 osinofili. Quindi questo dava un maggior peso all'aver avuto già una riacutizzazione. Quindi quando dobbiamo fare uno step up e scegliere una triplice terapia inalatoria, gli studi sulla triplice terapia inalatoria più importanti sono questi che vi ho qui riportato. E diciamo che gli studi in letteratura sulla triplice terapia inalatoria si dividono fondamentalmente in due grandi gruppi. Ci sono studi che avevano come endpoint primario il miglioramento della funzionalità polmonare e studi invece che avevano come endpoint primario la riduzione delle riacutizzazioni moderate e severie. E per motivi di tempo io vi parlerò degli ultimi due, l'impact e l'ethos, che sono gli ultimi due studi più recenti. L'impact che abbiamo nominato anche prima, anche questa è una pietra miliare nella storia della BPCO, perché è uno studio ampio, uno studio multicentrico, randomizzato, controllato, che ha arrolato più di 10.000 pazienti e che ha dimostrato la superiorità della triplice terapia inalatoria rispetto alle duplici terapie Laba-Lama o ICS-Laba nell'andare a ridurre il tasso annuale di riacutizzazioni moderato-severe. Questo era l'endpoint primario. Ma la solidità dei dati dell'impact è importante, perché nell'impact sono stati centrati tutti gli endpoint, il primario e i secondari, in maniera coerente e conseguenziale. E un dato interessante è che la triplice terapia ha mantenuto anche una significatività rispetto alla duplice sulle riacutizzazioni severe, che poi sono quelle che interessano a noi clinici, perché sono quelle che correlano con l'ospedalizzazione. Ma la vera novità dello studio impact è il dato di mortalità, perché la triplice terapia inalatoria era associata anche a una riduzione di mortalità per tutte le cause. Ovviamente il dato di mortalità dell'impact, però non va sovrastimato. Perché? Perché era un endpoint secondario. E quindi va sicuramente preso come spunto di riflessione per il futuro. Però l'interesse nasce perché per la prima volta in uno studio sulla BPCO, in uno studio su una terapia inalatoria, si parla di riduzione della mortalità. E noi questa cosa non ci siamo molto abituati, perché se noi pensiamo a tutti gli studi in ambito cardiovascolare, la mortalità rappresenta quasi sempre uno degli endpoint principali. I dati emersi dall'impact vengono confermati successivamente anche dallo studio Ethos, in cui viene studiata un'altra triplice terapia inalatoria. Anche qui la triplice terapia inalatoria, in questo caso vengono studiati due diversi dosaggi di steroide inalatorio. La terapia triplice raggiunge l'endpoint primario di superiorità rispetto alla duplice terapia sull'endpoint primario, che era appunto la riduzione delle reacutizzazioni in moderato severe, ma questa volta però non c'entra l'endpoint secondario sulle reacutizzazioni severe per quanto riguarda il dosaggio più basso, che invece viene raggiunto dal dosaggio più basso, però soltanto rispetto al trattamento con ICS-LAVA. Per quanto riguarda il dato di mortalità dell'impact, è un dato che ha suscitato interesse, tanto che sono uscite numerose post hoc e sottoanalisi di questo dato. Mi riporto questa sottoanalisi di Lipson che è interessante perché va ad analizzare il dato di mortalità sui pazienti on-off treatment. Mentre il dato di mortalità dell'impact è un dato on-treatment, quindi solo su quei pazienti che avevano portato a termine tutto il trattamento, questo dato è un dato sui pazienti on-off treatment, quindi ha una maggiore significatività. E anche sui pazienti on-off treatment, la triplice mantiene la significatività rispetto alla duplice terapia e così anche la duplice in cui abbiamo lo steroide inalatorio. Questa è una network metanalisi che vi ho voluto riportare perché la network metanalisi è uno strumento statistico che negli ultimi anni va molto di moda. Va molto di moda perché ci permette di superare quello che è un po' il limite delle metanalisi, perché ci permette di mettere a confronto casi in cui vengono usati tre o più trattamenti diversi. Però attenzione perché non ci deve far arrivare a delle conclusioni sbagliate. Soprattutto è una strategia statistica che cerca di fare dei confronti indiretti tra farmaci, ma dobbiamo darle il giusto peso. In questo caso anche questa network metanalisi ha mantenuto, ha dimostrato il dato forte già dimostrato dall'impact e dall'Esos, cioè che la triplice terapia è efficace nel ridurre le reacutizzazioni moderate e severe rispetto agli altri regimi terapeutici. Ma un altro punto veramente importante e molto dibattuto nell'ultima letteratura è la precocità con cui noi andiamo ad intraprendere una triplice terapia inalatoria. Ormai sta diventando sempre più evidente che nei pazienti in cui noi dobbiamo fare uno step-up terapeutico a triplice terapia noi dobbiamo essere precoci. Vi ho riportato pertanto questo studio che è stato presentato l'anno scorso all'ATS in cui sono stati valutati pazienti ricoverati, ospedalizzati per BPCO reacutizzata che nell'anno precedente non avevano avuto reacutizzazioni e sono stati divisi in due diversi bracci di trattamento. Quindi c'era un gruppo di pazienti che andava ad un trattamento precoce con la triplice terapia inalatoria ovvero entro 30 giorni dalla reacutizzazione ed un gruppo di pazienti invece che andava ad un trattamento ritardato quindi la triplice veniva iniziata tra il 31esimo e il 180esimo giorno e vedete come i pazienti in cui veniva iniziata precocemente la triplice terapia inalatoria dopo un ricovero per reacutizzazione avevano una riduzione delle reacutizzazioni e in particolare, questo era ancora più evidente per le reacutizzazioni severe. Possiamo quindi dire che ricordiamoci che il trattamento della BPCO stabile è un trattamento estremamente dinamico in cui noi dobbiamo prevedere dei controlli di follow-up periodici dove noi dobbiamo andare a revisionare quindi continuamente sia la presenza di sintomi valutare attentamente soprattutto la presenza di displea che la presenza di reacutizzazioni perché abbiamo visto l'importanza che hanno e inoltre in ogni valutazione oltre ad andare a valutare sintomi e reacutizzazioni verificare continuamente l'aderenza e il corretto utilizzo del device punto fondamentale in qualsiasi terapia per la BPCO perché noi possiamo scegliere anche il principio attivo che ha i dati migliori della letteratura ma se il paziente non usa il device in maniera corretta è inutile averglielo dato quindi questo è un punto veramente cruciale che sembra una banalità ma cambia veramente la storia naturale del paziente e le raccomandazioni Gold ci suggeriscono di essere attivi nella terapia della BPCO cioè di fare continuamente, di valutare step up o step down terapeutici in base proprio a come sta il paziente ma attenzione vi ho riportato i dati dello studio Glucold per fare una riflessione lo studio Glucold è uno studio che viene citato anche delle raccomandazioni Gold ed è uno studio in cui uno studio è un trial clinico anche qui randomizzato con un follow up molto lungo di 5 anni e ha dimostrato che i pazienti che erano in trattamento con steroide inalatorio per 30 mesi in cui veniva interrotto lo steroide inalatorio quindi veniva fatto uno step down terapeutico erano pazienti che nei 5 anni di follow up andavano incontro a un maggior declino della funzione respiratoria un maggior grado di iperattività bronchiale ed un aumento, un peggioramento dei sintomi della qualità di vita quindi questo quasi a voler dire che lo steroide inalatorio non ha comunque un effetto prolungato e che dobbiamo comunque pensare bene quando lo andiamo a sospendere e a valutare se esistono davvero delle controindicazioni o degli effetti collaterali infine ricordiamoci sempre che l'approccio al trattamento con la BPCO sta andando sempre di più verso l'approccio ai treatable traits quindi mentre all'inizio si parlava di un approccio individualizzato cioè nell'andare a considerare i pazienti con manifestazioni diverse di una stessa patologia sottostante successivamente ci siamo spostati verso la fenotipizzazione quindi abbiamo iniziato a dividere i pazienti con BPCO in grandi gruppi quindi pazienti a prevalente componente infestematosa, bronchitici, riacotizzatori adesso invece si parla di treatable traits cioè quello che noi internisti siamo abituati a fare nella nostra pratica clinica cioè andare ad identificare la caratteristica tipica di quel paziente che non riguarda soltanto la sua patologia di base ma anche le sue comorbidità i suoi fattori socioeconomici e la presenza di un caregiver quindi andare a fare una valutazione molto più attenta su quelli che sono i tratti distintivi di quel paziente quindi concludendo l'uso delle combinazioni lab-lama in un singolo inalatore è supportato da un solido razionale farmacologico ma anche da un'efficacia clinica emersa da trial e da osservazionale di real life le combinazioni lab-lama sono più efficaci dei lama o lab-a in monoterapia nei pazienti molto sintomatici nel migliorare funzione polmonare e disprea gli steroidi inalatori sono fondamentali nei pazienti con BPCO moderata severa che riacutizzano la triplice terapia inalatoria è un'opzione efficace e sicura per tutti i pazienti che hanno sintomi persistenti e frequenti riacutizzazioni e la triplice terapia è risultata più efficace nel ridurre le riacutizzazioni moderate e severe nei pazienti con BPCO grazie per l'attenzione beh grazie due relazioni come dicevamo prima tutto in 20 minuti parlare di un argomento così complesso come la BPCO e farlo per cui grazie a Ombretta per questa puntualizzazione sulla terapia e a Giancarlo per l'approccio generale cambiamo cambiamo argomento e dalla BPCO passiamo alle polmoniti comunitarie che sono un argomento estremamente interessante a parlarne Filippo Pieralli medicina interna ad alta intensità ospedale Careggi direttore insieme a Fulvio del Dipartimento della Ricerca della Fadoi per cui Filippo ti ascoltiamo con molta attenzione grazie grazie Roberto grazie alla dottoressa Pagnozzi per la moderazione un grazie particolare a Fulvio mi verrebbe a dire meno male che Fulvio c'è però non so se dovrebbe essere preso per il verso sbagliato allora io cercherò di parlarvi delle polmonite comunitarie non ho conflitti di interessi in questo ambito e i punti che cercherò di sviluppare nei prossimi 20 minuti sono rappresentati da definizione inquadramento delle polmonite in particolare delle polmonite comunitarie il trattamento antimicrobico diciamo che previsto per queste condizioni infettive e una breve escursus visto che i colleghi anche che precedentemente mi hanno che mi hanno preceduto hanno fatto accenno anche a complicanze extra diciamo organo rispetto a ciò che è stato trattato le polmonite si inseriscono nelle infezioni delle basse vie respiratorie insieme alla riacutizzazione alla bronchite acuta o alla riacutizzazione di BPCO e anche alle riacutizzazioni di bronchiectasie secondo definizione delle linee guida ma parlando di polmoniti esattamente noi abbiamo tre quattro caratterizzazioni poi la quarta vedremo che non è più in auge anche se qualche anno fa abbiamo fatto anche un pochino fatica a cercare di caratterizzare questa quarta categoria fondamentalmente per polmonite noi dobbiamo ricordarci sempre che dobbiamo avere una clinica suggestiva e congruente con un processo infettivo polmonare completata anche da dati biomorali ma anche e soprattutto da un imaging toracico un imaging toracico che ci debba ci faccia vedere diciamo degli infiltrati degli addensamenti comunque un quadro di impegno al veolo interstiziale di nuova insorgenza quindi questo è molto importante abbiamo quattro definizioni di polmoniti la prima su cui mi sofformerò è la polmonite comunitaria o acquisita in comunità o più semplicemente detta CAP anche in italiano talvolta troviamo in letteratura per qualche più raffinato della semantica l'addizione a community onset pneumonia e sono polmoniti in pazienti che vivevano al proprio domicilio non erano in un ambito ospedaliero sono le CAP l'argomento di oggi poi abbiamo le polmoniti nosocomiali rappresentate sia da le HAP hospital acquired pneumonia in senso generale che ricordo per definizione devono insorgere almeno dopo 48 ore dall'ingresso in ospedale e poi una categoria una sottocategoria delle HAP che è rappresentata dalla polmonite associata al ventilatore che è tipica dei pazienti ci sono una serie di criteri clinici e criteri ben precisi per definirli che è rappresentata dalle polmoniti associate a ventilazione invasiva infine diciamo un po' di anni fa ci avevano insegnato a riconoscere una quarta categoria che era rappresentata delle health care associated pneumonia rappresentata da una categoria di pazienti che potevano essere a maggior rischio di mortalità più o meno sovrapponibile a quella delle HAP e delle polmonite nosocomiali e a maggior rischio di avere come eziologia batteri multiresistenti o quantomeno resistenti alle terapie empiriche iniziate nel trattamento di una CAP e che era una miscellane di pazienti che avevano caratteristiche cliniche di fragilità particolari contatti con l'ospedale terapie antibiotiche utilizzate nei tre mesi precedenti caratteristiche di patologie e comodità particolarmente gravi in particolare i pazienti dializzati in realtà questa è una categoria estremamente che è stata divattuta già nel 2011 le linee guida le linee guida europee dell'ECMID non prendevano in considerazione questa categoria perché dicevano che non c'erano dati sufficienti per indicarla come categoria che invece veniva riportata nelle linee guida statunitensi ed effettivamente quello che è successo in questi anni ha dimostrato che non può essere considerata una categoria nosologica a parte perché in realtà i criteri individuati per la definizione di HCAP non identificano dagli studi fatti una popolazione di pazienti a maggior rischio di infezioni da agenti eziologici potenzialmente resistenti tant'è che quindi le ultime linee guida disponibili che sono quelle del aprile 2019 ottobre scusate 2019 della American Respiratory Society e appunto che prevedono un addendum alle precedenti linee guida su risposte a 16 punti ci dicono anche loro anche gli anglosassoni anche gli americani si sono convertiti al fatto che le alchera associated pneumonia non debbano essere considerate un'entità a parte ma considerare i fattori di rischio per MRSA o pseudomonas per eventualmente incrementare e implementare la terapia empirica iniziale allora parliamo direttamente delle CAP questo è un registro europeo il REACH registry che ha fornito un sacco di informazioni in merito alle polmoniti acquisite in comunità con un'età media di oltre 65 anni superiore al 50% l'isolamento eziologico in linea con quello che sappiamo già nell'ordine del 28% e lo premococco fra i batteri fra i batteri rimane il numero uno un'adegenza media come fotografia di circa 10 giorni che varia ovviamente fra il paziente ricoverato in terapia intensiva o nel reparto di degenza ordinaria una mortalità che si aggira dal 6 al 10% con delle medie al 7% allora noi hanno sempre insegnato negli schemettini di trattamento empirico in base agli agenti eziologici diciamo responsabili principalmente delle polmoniti comunitarie che beh forse un 40% non riuscivamo non avevamo una identificazione eziologica nella restante parte l'eziologia virale veniva considerata intorno al 15-20% non di più no 10-11% all'incirca 10-15% una fetta del 35% veniva attribuita all'eziologia batterica questi sono risultati di uno studio sono stati condotti due studi comparsi sulla stessa rivista stesso numero sia negli Stati Uniti secondo diciamo nell'ambito di un registro molto importante l'EPIC registri statunitense e studi condotti in Olanda dove praticamente veniva indagata l'eziologia delle polmonite acquisite in comunità in maniera estensiva con sia metodiche non invasive a partire dagli antigeni urinari per pneumococca e legionella che poi insomma vedremo che potrebbero avere anche alcuni problemi diciamo di identificazione eziologica però al di là di questo e fino a addirittura situazioni in cui veniva effettuato se non un bronco lavaggio alvolare però un'analisi molto dettagliata anche con PCR sia dei liquidi organici quindi liquido pleurico in caso ci fosse un versamento pleurico o bronco aspirato per l'identificazione eziologica ebbene i risultati sono questi che nel 60% e questo mi sembra più aderente alla realtà in cui viviamo tutti i giorni il 60% di questi pazienti estensivamente studiati con metodiche che anche noi nella pratica quotidiana non utilizziamo non riceveva un'identificazione dell'agente eziologico la maggior parte degli agenti identificati qui siamo in era pre-coronavirus SARS-CoV-2 aveva un'eziologia identificata come virale prevalentemente virus respiratori adenovirus coronavirus e virus respiratorio sincenziale in particolare negli anziani soltanto l'11% aveva un'eziologia identificata come eziologia batterica e ancora lo streptococcus pneumonie risulta ancora il numero uno fra gli agenti batterici tanto che nelle linee guida anche più recenti viene indicato nel periodo stagionale influenzale di fare comunque un tampone nasale PCR per influenza ma covid sono linee guida comunque vecchie perché non hanno preso in considerazione assolutamente il covid non entrerò io nel dettaglio perché non è materia di questa mia relazione però se noi guardiamo agli ultimi due anni sicuramente direi la stragrande maggioranza delle polmoniti comunitarie sono state polmoniti covid correlate soltanto per darvi qualche informazione circa quello che abbiamo visto e vissuto tutti noi che ci siamo occupati da vicino del covid prima Luigi Magnani che è andato via però ha rievocato in noi molta molta emozione vedevamo anche pazienti molto gravi abbiamo visto specialmente nelle prime fasi pazienti molto gravi che presentavano situazioni di assoluta negligenza della propria condizione clinica cioè sostenevano di respirare abbastanza bene a fronte di saturazione di ossigeno già abbastanza e parecchio compromesse e questo perché perché la polmonite covid fondamentalmente ha alcune caratteristiche principali intanto il mismatch ventilazione perfusione è particolarmente evidente con la possibilità di uno shunt intrapolmonare che è quello che fa sì che noi nonostante somministriamo elevate Fio2 non correggiamo l'ossiemia ventilazione dello spazio morto e appunto non responsivi all'incremento dell'ossigeno terapia una cosa molto interessante ma ci torno un secondo dopo è sicuramente la microrombosi intravascolare all'inizio pensavamo non vedevamo tante embolie polmonari ma che era l'aspetto macroscopico che noi riuscivamo a intercettare ma in realtà probabilmente non era così erano delle vasculiti delle endoteliti e sicuramente l'aspetto di interazione con l'AC2 a livello endoteliale da parte del virus fornisce una grandissima spinta protrombotica anche a livello micrograscolare ma molto interessante è la oltre alla ridotta capacità di diffusione per fenomeni infammatori e incremento del microcircolo è questo aspetto che vedete su in basso a sinistra cioè il virus il SARS-CoV-2 quando determina la polmonite dà un aspetto che è molto peculiare oltre a quello delle microtrombosi che è quello della perdita della regolazione della perfusione normalmente i polmoni a livello polmonare come risponde il circolo e il microcircolo nelle aree non ventilate vengono non perfuse c'è una vasocostrizione che fa sì che non venga perfuso uno spazio non ventilato e quindi provoca uno shunt della perfusione verso le zone ben ventilate nel covid succede esattamente l'opposto cioè c'è una perdita di questa tipologia di compenso che è la vasocostrizione epossica che nel covid non c'è ora non so se c'è un puntatore comunque qua vedete in rosso dove è presente l'addensamento polmonare in realtà la perfusione è aumentata quindi questo non fa altro che aumentare l'effetto shunt ma andiamo ritorniamo alle nostre polmoniti comunitarie secondo punto dell'agenda il trattamento antimicrobico trattamento antimicrobico che è prevalentemente e di solito mirato su una scelta empirica degli antibiotici un elemento importante sono i dosaggi e i tempi di somministrazione degli antibiotici che devono far riferimento alla farmacocinetica e alla farmacodinamica dei prodotti che noi utilizziamo secondo un mantra che era noto fino da Paul Henrich però che si ripropone sempre più modernamente cioè picchiare forte con gli antibiotici come nella sepsi iniziarli rapidamente e poi farli durare il giusto non protrarli a tempo indefinito e alcune considerazioni anche sulle resistenze resistenze soprattutto che devono prevedere ciò che succede a livello prevalentemente locale per quanto riguarda limitatamente l'eziologia batterica delle polmoniti noi abbiamo degli spettri eziologici un pochino diversi a seconda che noi abbiamo un paziente a seconda della gravità del paziente il paziente meno grave quello che noi curiamo in ambulatorio paziente ospedalizzato ma non intensivo e con una palmonite non particolarmente grave oppure polmoniti gravi cioè quelli che si ricovero in terapia intensiva vedete c'è un gradiente che lo streptococco premonie è sempre il primo agente eziologico però via via che aumenta la gravità aumenta la prevalenza di come causa dello stafilococco aureo e dei batteri gram negativi e quindi la terapia anche empirica che noi andremo a impostare si modifica a seconda della gravità nel paziente ambulatoriale forse ci interessa poco perché però diciamo di questi tempi succede anche di dover fare e coprire i turni in pronto soccorso e ci capita anche di dover rimandare i pazienti a casa oltre che vederli eventualmente in ambulatorio se vedete le linee guida ma tutte tutte specialmente danno un'indicazione di monoterapia nel paziente sano giovane che non ha particolari problemi o con una penicillina protetta quindi una moxicilina un acido clavulanico o una cefalosporina o un macrolide o una terraciclina mentre nei pazienti più a rischio come comorbidità più anziane eccetera si fa una terapia fondamentalmente analogo a quella che facciamo in ospedale cefalosporina più macrolide o penicillina protetta più macrolide o eventualmente florchilonoli respiratorio in monoterapia questo ci dicono le linee guida però bisogna fare molta attenzione perché se noi andiamo a vedere che cosa succede nel nostro paese in termini di resistenza per lo primo cocco che ricordo è il primo agente ziologico in termini batterici vediamo che questa mappa è del 2012 perché non sono riuscito a scaricare la mappa più recente ma vi ho riportato il dato in basso in Italia abbiamo una prevalenza di resistenza alle penicilline e allo primo cocco che è del 10% circa non molto però insomma da prestare attenzione quando facciamo una monoterapia peggio quando ci viene detto dalle linee guida eventualmente di utilizzare l'azitromici macrolide in monoterapia dove la resistenza che forse è un pochino scesa dal 2012 ad oggi però è del 25% cioè un paziente su 4 avrà uno pneumococco se la pneumococco è l'agente ziologico di quella pulmonite che è resistente al macrolide quindi attenzione anche nel paziente voglio dire sano la monoterapia con l'azitromicina probabilmente non è il farmaco ideale cosa succede per quanto riguarda il trattamento in ospedale allora qui abbiamo come già anticipato prima un trattamento empirico ovviamente poi quando abbiamo un'eziologia identificata dobbiamo mirare il nostro trattamento su quell'agente ziologico però diciamo nel trattamento empirico è fondamentalmente l'80% se non il 90% dei casi noi miriamo la nostra terapia antibiotica a seconda della gravità del paziente e a seconda di fattori di rischio per MRSA o pseudomonas e pseudomonas e vedete la terapia è sempre la stessa nel paziente non ricoverato in terapia intensiva beta-lattamico più quindi cefolosporina o fondamentalmente o beta-lattamina protetta più macrolide o fluorchilonone respiratorio fluorchilonone respiratorio che voi sapete abbiamo ridotto estremamente l'utilizzo più per gli effetti della nota AIFA che per una stewardship antimicrobica questo ce lo dobbiamo dire anzi qualche volta non utilizzandoli nei posti nelle situazioni che forse ancora hanno uno spazio di utilizzo estremamente appropriato poi andiamo a vedere se ci sono fattori di rischio per MRSA quindi una precedente infezione MRSA una colonizzazione da MRSA in un tampone nasale o fattori di rischio per pseudomonas eruginosa che sono pari pari quelli che ha fatto vedere Antonucci per le riacutizzazioni di BPCO allora in quel caso implementiamo la nostra terapia antibiotica aggiungendo una molecola contro MRSA e eventualmente contro antipsedomonas fondamentalmente la piperacillina tazobactam caso un pochino diverso nel paziente più grave ricoverato in terapia intensiva laddove la probabilità di infezione a gramma negativa o stofilococco aureo è ancora medicinio resistente è ancora più elevata e quindi conviene partire direttamente con una terapia più aggressiva terapia più aggressiva che deve prevedere anche un timing di somministrazione aggressivo se noi siamo abbiamo una ragionevole certezza di trovarci di fronte a una polmonite non dobbiamo dilazionare il trattamento antibiotico cioè se io lo vedo al primo pomeriggio all'ingresso del reparto non gli metto un antibiotico alle 21 glielo faccio subito la prima somministrazione poi metterò la schedula che è prevista anche per gli orari che si confanno al reparto se presento una situazione di grave instabilità emodinamica o un quadro di sciocco ovviamente il trattamento invece che entro le 4 ore dovrà essere effettuato sicuramente dentro la prima ora un po' di schizofrenia ce l'abbiamo nel trattamento e soprattutto nella durata del trattamento sempre riprendendo i dati del registro RIC del 2003 vedete che la durata media del trattamento qui siamo in Europa era di 10 giorni durata media il tempo dall'inizio del trattamento antibiotico alla stabilità clinica cioè quando il malato si è sfebbrato i parametri imodinamici sono buoni la saturazione di ossigeno è superiore al 95% sono 5 giorni circa con modifiche alla terapia iniziale anche qui forse più sulla scorta dell'emotività che sulla necessità nel 30% dei pazienti e una de-escalation quindi quando noi abbiamo mirato possiamo mirare la nostra terapia soltanto nel 5% dei casi questo deve darci delle informazioni anche per il futuro questa diapotesiva che vi può sembrare confusa mette semplicemente in relazione la durata del trattamento con la gravità della polmonite qui la variabilità di questi puntini vi dice che non viene effettuata nessuna valutazione di durata del trattamento sulla gravità della polmonite quindi non ci nascondiamo di arrondito dicendo che noi perché li vediamo più gravi utilizziamo trattamenti più prolungati ammesso che questi servano e i trattamenti più prolungati generalmente in letteratura la soglia è quella dei 7 giorni non favoriscono non hanno dati favorevoli né in termini di successo clinico né in termini di mortalità anzi hanno un effetto clinico negativo in termini di eventi avversi pazienti trattati più a lungo con antibiotici hanno effetti più a lungo un'altra cosa dove tuttora diciamo possiamo fare meglio già in ospedale è lo switch della terapia cioè al momento della stabilità clinica noi siamo autorizzati e invitati a fare uno switch da una terapia endovenosa a una terapia orale e questo perché perché favorisce una serie di elementi non solo agevola diciamo la routine del reparto e della somministrazione delle terapie ma favorisce riduce gli effetti collaterali delle somministrazioni endovenose e favorisce anche riduce i tempi di degenza questo perché perché se noi prolunghiamo le terapie antibiotiche abbiamo una serie in maniera direi inappropriata abbiamo una serie di effetti sfavorevoli che induciamo noi stessi soprattutto le selezioni per esempio di un'alterazione del microbiota intestinale con l'emergenza di forme di clostridium difficile e poi ancora la selezione di ceppi di batteri multiresistenti vi ricordo che per esempio clebsiella premonia nel nostro paese presenza una resistenza alle cefalosporine che è elevatissima siamo sull'ordine del 60% agarabapenemi del 30-35% quindi durata giusta anche diciamo prendendo in considerazione quello che ci dicono le ultime linee guida che sono arrivate un po' tardi rispetto alla letteratura comunque è una durata non inferiore ai 5 giorni ma nemmeno superiore ai 7 quindi fra i 5 e i 7 giorni l'ultimo minuto per toccare quali sono le complicanze internistiche e la CAP polmoniti i pazienti che si ricoverano per polmonite a tre mesi nel lungo periodo scusate qui siamo a oltre quasi due anni un anno e mezzo hanno una ridotta sopravvivenza nel lungo periodo vuoi perché sono fragili vuoi perché sono più anziani comorbidi e quant'altro però ci sono degli elementi che noi possiamo intercettare anche in fase precoce per esempio la coesistenza di una BPCO è un elemento fortemente suggestivo di ricovero e anche di incremento di mortalità ma anche per esempio il delirium il delirium è un elemento oltre alla gravità della polmonite che qui vedete rappresentata col curve 65 è un elemento che incide negativamente come in altre condizioni cliniche il delirium incide negativamente sulla sopravvivenza dei pazienti si è bloccato qui si è bloccato beh comunque un altro elemento un altro elemento importante l'abbiamo sentito anche in precedenza sulle complicanze cardiovascolari no no ora padre ma insomma se poi va va se no tanto ho finito è quella delle complicanze cardiovascolari eventi cardiovascolari del paziente affetto a polmonite grossolanamente si distinguono fra eventi placca correlati quindi una situazione di infiammazione durante il processo infettivo che determina un'instabilità di placca e quindi gli effetti che ne possono derivare e effetti non placca correlati come aumentata richiesta d'ossigeno e altre cose non so cosa succede sta governando lei ma insomma è la stessa per dirvi che gli eventi cardiovascolari sono molto frequenti nei pazienti ricoverati con CAP incidono negativamente sulla sopravvivenza su una serie di end point fondamentalmente noi siamo in grado di riconoscere quattro tipologie di end point che sono appunto rappresentati dallo scompenso di nuova insorgenza gli episodi aritmici prevalentemente l'insorgenza di fibrillazione atriale e flutter le sindrome coronariche acute e lo stroke allora questi sono i dati che vengono direttamente da ambito FADOI dove 25 cento hanno raccolto prospetticamente un po' di tempo fa più di mille pazienti con polmonite valutando gli effetti gli eventi avversi cardiovascolari a distanza di un mese e intercettandone sia i fattori di rischio che gli effetti sull'outcome qui semplicemente per farvi vedere che in questo spaccato la maggior parte degli eventi cardiovascolari si verifica nei primi 3-4 giorni nelle prime 72-96 ore il grosso degli eventi cardiovascolari si verifica in questo ambito quindi sono eventi cardiovascolari precoci che possono essere intercettati che hanno un un impatto anche sulla mortalità come altri elementi come la gravità stessa della polmonite o l'instaurarsi di una insufficienza renale acuta determinano in maniera importante di circa con un peso di circa due volte il rischio di mortalità a 30 giorni e vedete hanno un impatto significativo sia sulla mortalità che sulla necessità di riospedalizzazione vado a finire con questa ultima diapositiva per dirvi che appunto la scelta nelle CAP della terapia antibiotica è il secondo fattore di rischio senza andare a scomodare altre categorie nella nostra nosografia bisogna fare molta attenzione e mettere un occhio a quelle che sono i pattern di resistenza noti e anche locali antibiotici giusti alle dose giuste secondo una farmacocinetica giusta e per un tempo giusto e soprattutto una de-escalation quando possibile con uno switch precoce alla terapia olale e sfatare soprattutto che la terapia più lunga più dura e meglio è spesso si vedono anche alla dimissione indicazioni a continuare una terapia dimissioni per degenza casomai di una settimana di continuare una terapia a domicilio per altri cinque giorni questa è una pratica estremamente sbagliata che a mio modo di vedere come reparti di medicina interna visto che vediamo anche la maggior parte delle polmonite vengono ricoverate da noi possiamo dare un significativo contributo oltre a intercettarne alcuni aspetti di complicazioni che possono riguardare non solo l'organo polmoni ma l'organismo nella sua interezza grazie scusate se ho perso qualche minuto grazie 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 dottor Pieralli per la bellissima relazione anche qui tutto in 20 minuti veramente io ho tanti pensieri mi è venuto da fare riflessioni su dove facciamo la ventilazione non invasiva ai nostri pazienti BPCO quali pazienti BPCO riacutizzati hanno comunque indicazione a essere ventilati dove siamo nella loro traiettoria di malattia ad esempio dobbiamo proprio ventilare tutti i riacutizzati e poi mi sono molto piaciute le pratiche emotive quelle di cambiare l'antibiotico dopo tre giorni o di dare ancora cinque giorni di antibiotico al domicilio ma detto questo per fortuna devo moderare non fare il discussant e allora passo la parola alla dottoressa di Benedetti e al dottor Valtteri Berti che hanno il campo libero nella loro conduzione della discussione inizio io allora sì permettetemi un attimo solo di ringraziare il dottor Pomero per l'invito esteso anche a noi medici di famiglia grazie per l'attenzione a questa interazione che stai dimostrando che condivido pienamente perché penso che davvero sia nostro dovere ricercare sempre un maggior appoggio tra di noi perché penso davvero che questo possa fare la differenza nella gestione dei nostri pazienti ringrazio a questo proposito anche il dottor Iberti che è sempre molto presente e disponibile per noi porto un attimino questa patologia al di fuori dell'ospedale nel territorio che ovviamente è quello di cui mi occupo e ho due domande una per il dottor Antonucci e una per la dottoressa Pali al dottor Antonucci chiederei un consiglio sui nostri pazienti BPCO covid positivi cioè sulla gestione terapeutica riguarda l'utilizzo delle eparine piuttosto che antibiotici o steroidi che nel covid lieve e moderato che gestiamo noi inizialmente sul territorio non sono magari indicati di default ma ti chiedo se appunto nei pazienti BPCO dobbiamo avere una maggiore attenzione in questo caso e alla dottoressa Pala ho visto il suggerimento giustamente che hai dato sulla necessità di un follow up dei pazienti e penso che noi su questo possiamo fare anzi dobbiamo fare tanto nella rivalutazione questionari nel aiutarli nella gestione anche degli erogatori eccetera ti chiedo secondo te quale può essere un timing adatto per invece l'invio allo specialista ogni quanto richiedere una spirometria nel paziente con una BPCO stabile grazie non c'è molto sull'eparina a domicilio ti potrei anche dire forse che non c'è proprio niente come indicazione invece mi trovo molto d'accordo considerare intanto la terapia steroidea che è valida sia per il covid che per il bronchitico cronico riacutizzato sono bassissime dose di cortisone vengono consigliate 40 mg di prednisone ma anche meno 25 mg di cortisone lo vedo bene come idea viene consigliata ci sono anche dei studi con la zitromicina che non lo so la zitromicina effettivamente era stata usata per il covid con risultati pressoché inutili ma viene ancora considerata nel paziente con BPCO a domicilio per la sua attività immunomodulante in qualche maniera io non so se crederci però qualche studio c'è che dice che c'è una qualche azione un qualche effetto positivo sull'eparina io non so niente so che non viene consigliata a domicilio so che però so anche che non abbiamo più un covid di una volta che ha una durata particolarmente lunga ma grazie a Dio il più delle volte le cose si limitano in una settimana e non è detto che questi pazienti devono per forza stare retto fissi altre cose non me ne vengono in mente allora ti ringrazio per la domanda perché offre un sacco di spunti interessanti allora sicuramente nelle rivalutazioni ambulatoriali l'importanza come dicevo prima del corretto uso di device ma ancora prima di sensibilizzare il malato che quella terapia è una terapia fondamentale per la sua malattia perché noi vediamo spesso il malato che arriva in ospedale e che neanche nell'anamisi farmacologica ci dice che prende lo spruzzino come si chiama in Toscana e che lo spruzzino lo tiene lì magari lo fa al bisogno ogni tanto sui sintomi quindi c'è il primo messaggio che deve passare al paziente che quella terapia è la terapia fondamentale per la sua patologia per rallentare la storia naturale della patologia è come quando noi diamo un anticoagulante in un paziente a rischio di ictus cardiambolico noi lo terrorizziamo gli diciamo l'ictus cardiambolico è un evento terribile se lei non prende il farmaco la stessa cosa noi dovremmo farla anche con la BP ciò renderli consapevoli ma quindi prima di tutto esserne consapevoli noi probabilmente un altro punto fondamentale è anche per esempio la spirometria perché ancora oggi con la nota 99 probabilmente cambierà tutto eccetera molte cose sono peggiorate ma lasciamo stare ma non esiste un paziente che arriva in ospedale con scompenso cardiaco che non abbia un ecocuore un ecocardiogramma la maggior parte dei pazienti che arrivano con BPCO in ospedale sono pazienti che non hanno una spirometria che poi magari andiamo a fare una spirometria e non hanno la BPCO quindi sicuramente se il sospetto clinico è forte iniziamo il trattamento dobbiamo iniziarlo anche se non abbiamo la spirometria ma programmare la spirometria entro sei mesi sicuramente la triplice rimane un'indicazione una terapia dello specialista però comunque appunto quando si rivede la necessità magari di una triplice terapia rimandarla allo specialista va bene però ecco che il paziente comunque che abbia una spirometria che sia sensibilizzato all'uso della terapia quello è sicuramente fondamentale non è qualcosa di banale poi ovviamente sul monitoraggio e follow up eccetera quello dipende ovviamente dalla gravità dei sintomi dallo step up di terapia che vogliamo fare mi unisco ai ringraziamenti una provocazione il vecchietto dove lo metto lavorando in pronto soccorso indicazioni del dottor Antonucci sopra l'impulso lo sviluppo delle terapie subintensive nei reparti invece al dottor Pieralli steroide sì steroide no dosi durata allora la ventilazione non invasiva funziona molto bene nell'anziano abbiamo molte sotto analisi che ci dicono che effettivamente anche il viande vecchio ti può rispondere è chiaro che ci vuole la collaborazione di questi soggetti a volte vanno un po' sedati a volte un po' di morfina un pizzico di morfina può anche essere utile se vanno in delirium ma la risposta è c'è e comunque manca completamente l'alternativa cioè tu non hai altre cose da fare in questi soggetti perché questi soggetti gli animatori non ti riprenderanno mai per cui l'unico posto dove mettere questi anziani che una volta venivano messi nelle camerette con l'ossigeno e il giorno dopo erano morti l'unico modo è metterli in un reparto di subintensiva con un monito naturalmente se hanno le caratteristiche che sono quelli della fatica respiratoria e anche di un'emogasanalisi che sta scivolando verso l'ipercapnia basta poco Allora domanda steroidi sempre controversi gli steroidi però fondamentalmente direi che vanno riservati alle polmoniti più gravi nelle forme severe globalmente se guardiamo le linee guida ti dicono non vanno utilizzati se non quando sia presente uno shock settico secondo me è un pochino eccessiva come un po' troppo schematica perché ci sono delle situazioni in cui per buona pratica clinica chi vede i pazienti insomma lo sa ci può l'aggiunta all'osteroide soprattutto nelle condizioni per esempio in cui ci sia o un dolore pleuritico o un versamento pleurico che si sta formando l'osteroide offre sicuramente dei vantaggi in più senza dare nessun tipo di svantaggio quindi direi in definitiva steroide di default no nelle polmoniti però in presenza di situazioni di particolare gravità o di interessamento d'organo che possono giovarsi in una terapia antinfiammatore più importante per esempio anche in un paziente con BPCO secondo me direi che è molto appropriato mi sembrerebbe scortese non passare il microfono si giri verso di me ok perfetto domanda secca a me sì a chi nella CAP nel paziente lasciamo perdere il paziente fragile il timing dell'asta del torace cioè esistono tantissime se lo sappiamo 30% negativo l'attacco positivo il contrario le intestiziali non le senti quindi una volta la legge era 5 giorni di febbre fai la lastra nel 50% dei casi c'è una polmonite ti estringi i denti nel paziente normale non fragile dove l'alloco oggi come oggi sul territorio la lastra del torace come timing nel paziente non ricoverso cioè il paziente ambulatorio a casa diciamo dato in più per decidere se deve arrivare l'attenzione ospedaliera sì se deve fare la radiografia in che tempi eh beh io direi che i tempi che hai indicato mi sembrano molto ragionevoli cioè se c'è un quadro clinico di tipo effettivo che orienta sul versante respiratorio ovviamente un timing per fare una radiografia è più che adeguato quello dei 3-5 giorni poi dobbiamo capire esattamente però direi che quello è già poi un paziente che alla fine si merita un'ospedalizzazione se eventualmente hai una radiografia che non dimostra niente nonostante che tu pensi che vi possa essere un sospetto clinico di polmonite perché possiamo sappiamo ci sono delle condizioni in cui come si a parte i criteri curve che proprio ci sono delle condizioni in cui l'infiltrato alveolare non si verifica almeno nelle fasi iniziali almeno alla prima radiografia per esempio nel paziente particolarmente anziano che ha una risposta poco diciamo ipoergica il paziente disidratato per esempio che in cui diciamo sempre la componente fluida interstizio alveolare tarda a presentarsi e quindi è quella che ti fa vedere l'addensamento poi la radiografia e poi il paziente però siamo già in un ambito nel paziente immunodepresso anche lì per una mancanza di risposta o almeno ritardata per cui l'infiltrato alveolare può essere negativo alla prima radiografia del torace però quindi in questi casi il sospetto clinico deve rimanere alto perché eventualmente tu vai ad un'altra diagnostica vorrei chiedere a voi esperti nota 99 non mi sognerei mai di richiedere un test ergometrico in un paziente rivascolarizzato sospendente il beta bloccante quindi la nota 99 è una farsa cioè serve a raddrizzare chi si comporta male io ho imparato da Roberto Norbiato fin da tanti anni fa che era utile associare i lab e i lama già nello stadio gold e avevo parlo casi a una mano 2015 2016 pazienti con un rapporto BEMS FVC di 65 66 quindi indicati alla duplice seguite questi pazienti a differenza di ciò che si dice della COPD che è irreversibile e trattabile solo per i sintomi io tutti questi pazienti li ho portati sopra i 70 71 adesso mi faccio la spirometria e quelli non rientrano più nel limite il collega mi dice sospendi 7 giorni ma io non vado a sospendere 7 giorni anche perché ha l'effetto dei lab e dei lab non è come il beta bloccante che 24 ore si risolve quindi io mi assumo la responsabilità di continuare la terapia nel momento in cui vengo a essere richiesto ma lei come si permette di dare un farmaco che è al di fuori secondo voi è logico riferirsi alla spirometria fatta precedentemente dove mi diceva che era indicato ma mi si può dire eh ma la qualità di esecuzione era non era buona per cui risultava peggio di quello che è adesso cioè come ci si può comportare io non mi sento di togliere un'associazione che fa star bene i pazienti gli evita di peggiorare solo perché è migliorato grazie come sospendere il farmaco antipertensivo una volta che ho la persona attarda che cosa ne pensate grazie ancora e complimenti sì sì io personalmente sono completamente d'accordo con te e la nota 99 la ritengo diciamo anche a volte in alcuni punti anche poco comprensibile in italiano e può generare anche dei insomma vari controversi quindi sono perfettamente d'accordo con te ma come anche tutta la parte della triplice terapia anche su di quello ci sarebbe un mondo e anche lì i comportamenti che poi noi adottiamo spesso non sono dei comportamenti come dicevi te sempre alla regola no perché poi nella pratica clinica ti trovi il paziente che ha indicazione a fare una triplice ma se noi guardiamo i risultati cioè gli effetti della nota 99 sicuramente l'effetto positivo di sensibilizzare alla spirometria lo riconosciamo bene ma se noi andiamo a guardare i dati anche cuvia presentati insomma da poco si è ritornato molto a fare aerosol molto anche a usare le terapie con device diversi quando la letteratura ci dice in tutti i modi di privilegiare un unico device anche quando si fa una duplice una triplice un unico device e sono dati che non vanno solo nel senso della compliance per esempio perché anche i dati di utilizzare la triplice in un unico device non lo facciamo solo per la compliance ma lo facciamo perché hanno visto in letteratura che anche rispetto a chi faceva una triplice con due device diversi va meglio la funzionalità respiratoria le riacotizzazioni i sintomi quindi ci sono anche dei meccanismi di sinergismo diversi eppure per prescrivere una triplice chiusa c'è bisogno di un dato spirometrico che a volte non abbiamo anche se il paziente ha l'indicazione allora uno gli dà magari la triplice chiusa sperando che entro un mese stirato perché poi non deve essere vicino alla riacotizzazione faccia la spirometria e quindi si cerca di bypassare così cose che ovviamente come dicevi ecco non si dovrebbero volevo solo aggiungere che la spirometria va fatta nel paziente stabile perché se no se la fai in uno che respira male probabilmente ti dà dei valori che poi guarisce e non è così chiaro chiudiamoci ma chiudi tu io volevo fare una c'era il dottor Briozzo io posso anche per deferente passare il microfono al dottor Gulli prima e allora vado io ci sono sempre prima io allora io voglio fare una domanda a tutti e tre nel senso che io sono un fautore del risparmio della terapia antibiotica in tante delle infezioni delle basse vie respiratorie oltre che dell'accorciamento della durata della terapia però secondo me le linee gold nella riacotizzazione di BPCO non sono fatte bene cioè il capitolo della riacotizzazione è gestito troppo male in maniera troppo superficiale in tutte le edizioni delle linee guida gold e mi spiego meglio cioè loro parlano di riacotizzazione di BPCO terapia cortico-steriodia sistemica terapia aerosolica broncodilatatrice terapia antibiotica questo può valere nelle stadio 4 e forse D dove il paziente è un frequente riacotizzatore un mechete bronchiectasico colonizzato da pseudomora sorogenosa MRSA tutte queste cose belle nel paziente nelle prime stadi stadio 1A praticamente è un paziente che non esiste perché diciamoci la santa verità un paziente che ha un F1 assolutamente performante che non ha riacotizzazione un paziente che secondo tutti i vari protocolli sta benone e non riacotizza è un buon performance status laddove però ci sono questi stadi intermedi lo qua spesso e volentieri il paziente che riacotizza anche quello che viene all'ospedale viene sottoposto in maniera empirica a un trattamento antibiotico che spesso e volentieri è sovrastimato perché non dimentichiamoci che il buon 50% delle riacotizzazioni è virale e quindi mi chiedo cosa ne pensate trattate tutti i pazienti che arrivano con la BPCO conoscendolo nello stadio ovviamente gold oppure cercate di risparmiare magari affidandovi affidandovi alla PCR affidandovi a una serie di considerazioni oppure siete temerari e non li trattate li trattate solo con la terapia cortico-steroidea broncodilatatrice io cerco di essere un po' più temerario e di non sottoporre a pressione selettiva antibiotata tutti i pazienti che arrivano con insufficienza respiratoria o riacutizzati auguri per la risposta no dunque hai toccato un punto che è un punto di opinioni tant'è che la terapia antibiotica viene data in base ai sintomi poi alla fine c'è chi pretende tutti e tre i sintomi che ne pretende solamente due sintomi per poter cominciare un antibiotico in realtà quello che conta è la gravità del paziente cioè devi distinguere fra severità della bronchite cronica ostruttiva cioè il FEV1 è quello che ti pare e la riacutizzazione la riacutizzazione va stratificata nel rischio con tutti quei parametri che abbiamo visto prima che pretendono anche come dire la misurazione clinica della situazione e l'emogassanalisi se un paziente è in pericolo di vita l'antibiotico chiaro tu parli del domicilio tu parli del domicilio del paziente eh lì è due è il paziente che può essere comorbido che può tranquillamente avere un'altra causa della sua dispenea sono d'accordo però attenzione perché poi un po' di certi persone non credo che ammazzi le persone per cinque giorni esatto io sono perfettamente d'accordo con te io ti do la mia la mia visione che è abbastanza in linea sono molto anch'io molto sensibile al consumo diciamo all'utilizzo degli antimicrobici perché noi siamo a dei livelli di resistenza antibiotica che soprattutto sui grammi negativi non abbiamo insieme alla Grecia poi in Europa siamo messi peggio di tutti come praticamente il debito pubblico più o meno ma di ripari passo e io sono d'accordo con te per quello che mi ricordo io almeno qualche tempo fa avevo un po' studiato l'argomento perché mi incuriosiva molto intanto la definizione di riacutizzazione di BPCO è una definizione che noi non ci sogneremo in altra patologia di definirla acutamente ma se uno sta peggio insomma una sindrome coronica se tu sta peggio sei riacutizzato c'è una sindrome coronica non è così come la fenotipizzazione dei pazienti io mi sono sempre chiesto come mai ancora non si è entrato nell'ambito della fenotipizzazione della BPCO per esempio un esame un pochino più solido come un attack del torace che ti dà già un quadro diciamo anatomico ben diverso che può orientare anche sulle scelte poi di terapia nel lungo termine nella riquetizzazione qualche tempo fa lessi un lavoro che da un punto di vista stilistico era perfetto cioè valutava se ancora il colore dello sputo dell'escreato era poteva essere considerato una guida adeguata per scegliere o non scegliere se trattare un paziente con antibiotica terapia e questo studio praticamente prendeva in considerazione pazienti con riacutizzazione li distingueva fra sputo escreato mucoso e escreato purulento e li sottoponeva a un BAL erano 100 pazienti poca roba però studiate benissimo con un BAL con un brushing protetto quindi il top della sensibilità per il BAL e c'era una concordanza elevata fra ciò che ritrovavi nel BAL e ciò che vedevi nell'escreato cioè quelli mucosi non ritrovavano quasi nulla se non eziologia virali quelli con escreato giallastro un'elevata percentuale di eziologia batterica e questo mi aveva ulteriormente convinto sul fatto che purtroppo anche se non è uno strumento estremamente come dire tecnologico però tuttora il colore dell'escreato è una buona guida a un trattamento antimicrobico antimicrobico oppure no e percorrere una strada che possiamo anche aspettare un po' quindi io sono in linea con te cosa un pochino più difficile nel paziente ricoverato con insufficienza respiratoria dove diciamo con l'ossigenoterapia e se non ha un escreato pururento anch'io sarei per attendere quello che deve andare incontro a una terapia ventilatoria non invasiva allora forse anche no anche se non è che c'è tutta questa evidenza di letteratura posso aggiungerti i due marcatori che sono stati presi in considerazione per dare sicuramente l'antibiotico sono sicuramente l'espettorato purulento e l'interlochina 1 beta però chi è che fa queste cose chiaramente poi questo ti porta a dare l'antibiotico tu dici chi sono quelli a cui non dare l'antibiotico è quello il problema esatto e lì devi misurare la gravità del paziente secondo me che guida è la gravità del paziente e la devi misurare meglio che puoi a quel punto lì entri in una fascia di opinioni in cui puoi dare l'antibiotico come no quello che è sbagliato è darlo per un periodo lungo questo è chiaro bene io lo dichiaro prima per evitare che ci spengano le luci il dottor Gulli è la nostra ultima domanda no velocemente volevo volevo riallacciarmi a quanto diceva il collega il dottor Graziano relativamente all'uso dei broncodilattatori in assenza di una diagnosi spirometrica di BPCO soltanto per ricordare che la Lancet Commission on COPD ci propone una differente classificazione della bronchite cronico struttiva invitandoci ad essere leggermente proattivi non è una linea guida è un'indicazione è una proposta in quanto quando il paziente fa la spirometria noi facciamo diagnosi di BPCO il paziente ha già avuto un remodeling delle vie aeree ed è in una fase di malattia talmente avanzata che tante volte si riesce ad alleviare il sintoma ma non a rallentare il peggioramento quindi la tua è un'obiezione che è stata raccolta dalla Lancet Commission e sulla quale si lavoreranno i prossimi anni a questo punto possiamo finire grazie Roberto per aver condiviso e lasciamo lo spazio alla medicina d'urgenza direi un pochino in ritardo comincio il turno di guardia prego grazie allora iniziamo subito quest'ultima sessione vabbè come mi ha preceduto ringrazio gli organizzatori Fulvio per l'invito e l'ospitalità in questa bella location non so se è proprio il turno della medicina d'urgenza perché le urgenze capitano a tutti appunto in qualsiasi ambiente però darei inizialmente già subito la parola vuoi salutare al primo relatore Michele Meschi che ci parlerà di cosa fare nel paziente con iposodemia grazie buonasera a tutti allora l'ora è tarda per cui chiedo anticipatamente scusa a tutti gli uditori e a Fulvio che ringrazio tantissimo se dopo aver volato sulla clinica e la ricerca passeremo alla praticaccia semplificativa più bieca possibile che però è molto importante in questo ambito il quadro dell'iponatremia è un quadro molto frequente nella pratica clinica se vedete le patologie a cui può associarsi sono praticamente quelle che troviamo tutti i giorni nei nostri reparti però il dato dell'iponatremia guardando gli odd ratio per mortalità in pazienti che ce l'hanno e che non ce l'hanno è altamente significativo anche degli aspetti prognostici che questa alterazione elettrolitica può suggerire nella valutazione del paziente stesso parliamo di iposodiemia tutte le volte che abbiamo una concentrazione plasmatica di sodio al di sotto dei 136.000 equivalenti su litro le classificazioni sono le più varie e su caratteristiche le più disparate dalla velocità di insorgenza dei sintomi alla gravità quantitativa dell'iponatremia però credo che la cosa più utile da fare sia prima di tutto fugare degli errori concettuali di base nel 99% dei casi una iposodiemia cioè una riduzione della concentrazione di sodio nel plasma è dato esclusivamente da un eccesso assoluto relativo di acqua e non c'entra niente con la perdita di sodio se non una piccola quota che poi vedremo nella piccola quota di probabilità questo è un dato molto importante per evitare di commettere degli errori concettuali che sono fondamentali così come un altro errore da evitare è dissociare il valore di concentrazione di sodio plasmatico dal concetto di idratazione del paziente un paziente ipersodiemico è solitamente disidratato un paziente iposodiemico è un paziente solitamente iperidratato e tutto questo quasi sempre non ha nulla a che fare con la volemia del paziente che invece dipende dalla quantità assoluta di sodio corporeo che sostiene quindi il volume extracellulare e quindi anche la sodiemia tornando al discorso dell'idratazione noi non possiamo prescindere dal concetto di osmolarità efficace o tonicità l'osmolarità lo ricordiamo tutti data una membrana in cui passa solo l'acqua e non passano i soluti l'acqua si sposta dalla parte più diluita alla parte più concentrata dove ci sono i soluti i soluti tirano acqua a sé se noi vogliamo avere un'idea dell'osmolarità del plasma e ci dimentichiamo nel paziente standard glicemia e azotemia possiamo approssimare l'osmolarità plasmatica a due volte il valore di sodiumia c'è poi quasi sempre a scopo diagnostico la possibilità di misurare il gap tra l'osmolarità che noi misuriamo effettivamente e quella che abbiamo calcolato sui presupposti teorici appena visti sopra i 10 vuol dire che c'è una differenza che dobbiamo spiegare in qualche modo esistono tantissime flociarde da tenere in tasca nella diagnosi differenziale dell'iponatriemie tra tutte si basano lo vedete anche qui sulla valutazione dell'osmolarità urinaria superiore o inferiore a 100 milleosmoli su chilogrammo d'acqua oppure molto semplicemente valutando quanto sodio perdo nelle urine se questa natriuria è sotto o sopra i 30 millequivalenti su litro ma in realtà secondo me il modo più semplice anche se apparentemente più complicato per una corretta diagnosi differenziale è una questione meramente semantica noi possiamo ricondurre le iponatriemie essenzialmente a 5 casi differenti tra di loro il primo caso è quello didatticamente più semplice se noi guardiamo c'è un eccesso di acqua libera rispetto alla quantità corporea di sodio la quantità di sodio corporea colonne e mezzo è normale quindi anche il volume extracellulare è normale ho un eccesso di acqua quando si verifica questa situazione tutte le volte che io ho un introito parenterale o enterale di acqua libera che però deve essere concomitante alla capacità renale di far fronte allo smaltimento di questa quota di acqua libera e sapete che queste capacità renali sono molto sviluppate si arriva a 180 litri al giorno a 125 millilitri al minuto quindi quando la quota di acqua che io do al paziente è superiore alla capacità del rene di eliminare il carico idrico perché il rene semplicemente non funziona semplicemente c'è un grado di insufficienza renale medio grave e ricordiamo la sioma che insegnavano i miei maestri in nefrologia tutti gli anziani hanno un'insufficienza renale tutti allora in questo caso noi sviluppiamo una riduzione della concentrazione plasmatica di sodio il secondo caso è fratello gemello ma c'è una differenza lieve anche in questo caso c'è un eccesso di acqua libera però in questo caso l'eccesso non è esogeno si tratta sempre di una iposodemia ipotonica perché c'è appunto un eccesso d'acqua libera la volemia non cambia quindi è sempre una iponatremia euvolemica però c'è qualche cosa all'interno dell'organismo che mi fa sì che in proporzione io trattenga più acqua rispetto a quella che dovrei eliminare è quella che una volta si chiamava sindrome da inappropriata secrezione di adh e oggi più genericamente si chiama sindrome da inappropriata antidiuresi ricordiamo che una condizione estremamente frequente non è rara pensiamo a tutti gli accidenti di qualunque genere a livello del sistema nervoso centrale dalle infezioni ai traumi anche i traumi stradali è correlata l'iposodemia alla gravità della prognosi del paziente traumatizzato ricordiamo le sindrome paraneoplastiche soprattutto polmonari ricordiamo un'infinità di farmaci di uso comune che può causare un quadro del genere antidepressivi inibitore della ricapitazione della serotonina farmaci antipsicotici eccetera la differenza sostanziale rispetto all'altro quadro è che in questo caso una quota di sodio che perdo per le interazioni che ci sono con il peptide natouretico-triale ci sono però dal punto di vista fisiopatologico c'è sempre un eccesso di acqua il terzo caso è quello di una iposodemia ipotonica ipovolemica in questo caso io perdo sia acqua che sali però la perdita di sali è in proporzione quantitativamente maggiore di un eccesso relativo di acqua che rimane è ipovolemica perché perdendo una quota di sodio perdo anche una quota di catione che mi sostiene la volemia efficace quando io perdo acqua e sale ricordate per esempio la caratteristica frequentissima del paziente anziano disgraziato iperteso che ha come prima scelta della terapia il diuretico-tiazidico cosa che per i nefrologi è una bestialità ma che purtroppo è rientrata anche nelle linee guida dell'ipertensione in questo modo io perdo acqua e perdo sale però perdo meno acqua in proporzione l'acqua rimane in eccesso le altre condizioni possono essere le nefropatie sodio disperdenti le perdite di sale che io posso misurare anche qui con una natriuria superiore a 30.000 equivalenti su litro oppure quando la natriuria invece non è superiore a 30 posso mettere in questo calderone anche tutte le perdite dal tratto gastroenterico la diarrea e tutto quello che ne consegue può esserci un'iposodemia ipotonica ma ipervolemica certo che può essere ed è molto frequente io ho un eccesso di acqua e sali sono le classiche sindromi ed emigene tre scompenso cardiaco la cirosi epatica e la sindrome nefrosica tanto per usare i tre paradigmi più classici in questo caso la natriuria è ridotta perché ha una contrazione ovviamente della perdita di sodio nelle urine la quota però di acqua è sempre in eccesso alla quota di sale che pur io ho trattenuto poi ci sono gli imbroglioni l'iponatremia non ipotonica sono due condizioni che sono confondenti ma che non c'entrano nulla dal punto di vista fisiopatologico con quanto detto finora ricordiamo che nelle condizioni di iperglicemia noi dobbiamo sempre correggere per l'iperglicemia quella valutazione del sodio che apparentemente vediamo in laboratorio perché l'iperglicemia richiama acqua nel circolo e quindi in questo modo la sodiemia tende a ridursi tutte le volte che abbiamo degli incrementi di glicemia di oltre 100 mg decilitro noi dovremmo contemplare una riduzione della natriemia di 1,6 mila equivalenti su litro quando le glicemie sono anche aumentate per ogni 400 mg su decilitro di glicemia che aumenta noi dovremmo pensare addirittura a un'iposodemia ridotta di 2,4 mila equivalenti su litro la pseudoniponatremia invece come dice il suffisso pseudo è un misleading di laboratorio nelle condizioni di ipertrigliceridemia le pancreatiti o di iperprotidemia anche soprattutto le iperparaproteinemie il mieloma la sindrome di Walden stroma eccetera la quota di liquido in circolo è minore quindi è misurata meno anche la quota di sodio che è presente in quel determinato contesto è grave l'iposodemia e può esserlo qual è l'organo bersaglio più pericoloso il cervello che fa di tutto per contrastare gli effetti dell'iposodemia come agendo sull'equilibrio osmotico dei neuroni eliminando cationi all'esterno ma anche soluti organici è un sistema efficiente che però ci mette almeno 48 ore per essere efficace ecco perché se da un lato il rischio della la conseguenza prima dell'iposodemia è l'edema cerebrale perché io ho meno sodio fuori ho più sodio dentro le cellule che richiama acqua da fuori le cellule si gonfiano devo stare estremamente attento dal punto di vista terapeutico a non creare un danno peggiore dell'insorgenza dell'iposodemia stessa cioè una correzione troppo veloce dell'iposodemia o una correzione troppo fine a livelli troppo normali dell'iposodemia perché mi causa il quadro opposto ma altrettanto grave di mielinolisi o demilinizazione pontina ed extrapontina arriviamo alla terapia anche qui pochi concetti ma devono essere molto chiari due grandi capitoli proprio per semplificare al di là delle linee guida che sono molto diverse anche tra le europee e le americane a seconda anche di farmaci label che ci sono qui da noi un conto è il trattamento dell'iposodemia cronica e un conto è il trattamento dell'iposodemia acuta sintomatica incominciamo da quella cronica in quella cronica non bisogna avere fretta Sterns uno dei padri degli studi sugli elettroliti dice six a day makes sense for safety cioè noi dobbiamo avere come target iniziale la correzione di non più di 6 milliequivalenti rispetto al valore che ci troviamo in quel momento lì e nel caso siano presenti sintomi questo valore di 6 anziché nelle 24 ore lo possiamo anche portare entro un range più ridotto di 6 ore ma poi dobbiamo fermarci e per quella giornata non correggere più la sodemia del paziente lasciare che i neuroni facciano il loro corso qual è la terapia dell'iposodemia è una sola la restrizione idrica quindi è inutile che cerchiamo di correggere il sodio se le infermiere o gli os mettono sul tavolino del paziente 85 bottigliette perché il paziente ha sete il paziente deve provare sete e la restrizione idrica non vuol dire una bottiglietta vuol dire sotto i 500 ccd compreso il minestrone il brodo la pasta eccetera ci sono ovviamente anche degli approcci farmacologici per il caso dal punto di vista di integrazione dietetica per esempio l'urea che sta tornando decisamente di moda non parlerò dei vattani perché hanno delle indicazioni estremamente precise in quanto ad azione sui recettori dell'ADH la sindrome dell'anoproprata antidiuresi in particolare nel paziente oncologico sintomatico grave quello su cui noi possiamo giocare e concludo così la mia trattazione è quello della iposodiemia acuta sintomatica questo è l'unico caso in cui correggiamo il sodio basso dando sodio ed è un setting che va fatto rigorosamente ovviamente nel paziente ospedalizzato con seriati controlli della sodiemia quali soluzioni usare scusate che prima torno indietro perché c'è stato un blocco che non si vedeva però la vedo io ma si vede perfetto allora se io voglio capire sulla base della soluzione che ho a disposizione quanto sarà la variazione di sodiemia che vado a indurre del paziente io posso fare la differenza tra il contenuto di sodio la concentrazione di sodio scusate nella soluzione che sto infondendo espressa in mille equivalenti su litro meno la sodiemia che sto misurando nel paziente tutto questo diviso l'acqua corporea totale espressa in litri più uno anche qui avendo come limite di cautela la correzione non superiore a un mille equivalenti su litro ora facendo un esempio io ho un paziente di 70 kg se in un paziente di 70 kg il contenuto di acqua corporea è circa il 60% vuol dire che questo paziente ha addosso 42 litri di acqua gli misuro la sodiemia e scopro che ha 112 cioè una sodiemia grave perché ha un valore significativo sintomatica perché il paziente tende magari ad essere soporoso io voglio ottenere in questo paziente una correzione della sodiemia di circa un mille equivalenti litro ora fermandomi dopo un'infusione di 6 ore perché questo è il limite massimo in cui posso andare allora vado a cercare negli infermieri che cosa ho dentro l'armadietto posso avere una soluzione ipertonica di sodio cloruro al 3% che non è così frequente avere nell'armadietto è molto meglio le fialette di sodio e lo vediamo tra poco un litro di una soluzione di sodio cloruro al 3% vuol dire che in un litro ci sono 513 mille equivalenti di sodio cloruro se io infondessi a questo paziente un litro di quella soluzione che ha una concentrazione di sodio di 513 otterrei sulla base della formula che ho visto prima una variazione di sodiemia nel paziente di 9,3 mille equivalenti su litro ma non è quello che voglio io voglio avere come target non devo superare i 6 mille equivalenti su litro quindi io dal 112 per ragioni di sicurezza devo portare il paziente a 118 in 6 ore e non di più se no faccio dei danni allora molto semplicemente che cosa faccio? se un litro della soluzione comporta una correzione di 9,3 mille equivalenti su litro allora per la correzione di 6 mille equivalenti su litro sono necessari 6 per mille diviso 9,3 642 cc della stessa soluzione che vuol dire che un litro della stessa soluzione comporta una variazione di sodiemia di 9,3 mille equivalenti su litro e perché la velocità di correzione sia 1 mille equivalenti su litro a ora un litro deve essere infuso in 9,3 ore cioè vuol dire che io prendo la mia soluzione salina al 3% e la metto su a 107,5 cc ora dopo 6 ore misuro la sodiemia e io trovo che è aumentata di 6 mille equivalenti su litro se ho fatto i conti giusti dicevamo prima però che questo stesso paziente potrebbe non avere a disposizione le soluzioni di sodio cloruro al 3% ma abbiamo le fialette quelle di sodio da 20 mille equivalenti per ogni 10 cc vuol dire che se io facessi due litri di queste fialette avrei una soluzione di sodio cloruro all'11,6% ve la faccio molto breve per non rifare tutto questo giro di conti a che cosa equivale fare questo se io voglio portare sempre ad una correzione di 6 mille equivalenti su litro vuol dire prendere 5 fiale di sodio cloruro metterle dentro una siringa elettrica da 50 cc in questo modo 20 per 5 uguale 100 e avviare per 6 ore consecutive l'infusione alla velocità di 1,2 cc ora spero di non essere stato troppo semplificante e vi ringrazio dell'attenzione grazie a Dottor Meischi soprattutto per la chiarezza e la sinteticità ringrazio il Dottor Pomero per l'invito e con molto piacere presento il Dottor Luca Dutto che è un medico d'urgenza convertito che è diventato direttore della medicina interna di Saluzzo ci parlerà del danno renale acuto grazie ringrazio Fulvio per l'invito meno come molti altri per l'argomento che si presta a dilungaggini io cercherò di fare una puntualizzazione su molto pratica anch'io sull'approccio all'acute kidney injury possiamo iniziare allora inizio con questa frase un poco provocatoria si può vedere anche sul un po' provocatore nel senso che quando abbiamo un paziente ipovolemico e abbiamo quella che chiamavamo una volta insufficienza renale seguita un'ipovolemia in realtà è un successo del rene perché finalisticamente è un rene che lavora bene che cerca di risparmiare quello che si sta perdendo è abbastanza c'è un po' di dissociazione tra quello che vedo qua chiedo scusa allora la definizione di acute kidney injury è nata circa 15 anni fa per sostituire quella che era l'acute kidney failure in realtà serviva per cercare di standardizzare un pochettino la definizione che cos'è l'acute kidney injury in realtà è quello che per il polmone e la rds sia un problema specifico su un apparato nel contesto di una patologia una patologia sistemica caratterizzata al più delle volte da una da un'infiammazione sistemica e ancora una una situazione abbastanza importante per la gravità perché è una mortalità piuttosto elevata nei pazienti che vanno incontro a dover andare incontro a una terapia di replacement renale che possesse ultrafiltrazione o dialisi e ha un tasso di mortalità che negli ultimi 30 anni nonostante il miglioramento tecnologico e la possibilità di fare delle ultrafiltrazioni in acuto non è variato questo deve essere sfuggito questo dato ai fanatici dell'evidence based che affermano che un un protocollo o un trattamento andrebbe sospeso non fatto se non ha un'incidenza positiva sulla mortalità tuttavia il problema rimane e rimane già il problema già nella sua definizione perché sono in sorte un sacco di classificazioni queste sono le due più famose che cercano di inquadrare la l'ACI a seconda di una classificazione sulla base del danno e sulla base degli esiti una delle più famose della RIFOL dove le condizioni minime per stabilire un'ACI è quella di avere un incremento del 50% del valore basale della creatininemia associata a quella che noi definiamo una oliguria ossia un'escrezione urinaria al di sotto dei 0,5 millilitri pro chilo ora per 6 ore questa classificazione ha un difetto sostanzialmente facciamo così si è di nuovo bloccato il tecnico in sala per favore sarà il rene che tiene il problema è anche l'argomento anche il computer nota che sembra che c'è un medico in sala esatto se io lo piaccio anche di qua non è un problema ok ok non è bastante solo questo questa qua è giusta no però c'era ancora un'animazione che doveva aspetti no già ecco qui qual è il problema della Riffle che non determina un delta T definito per l'incremento della creatininemia e soprattutto questa variazione minima di 0,5 della creatininemia è considerata da molti un po' troppo ampia quindi potrebbe impedire una precoce diagnosi la classificazione hacking tenta di ovviare a questi problemi infatti introduce che l'incremento della creatininemia che in questo caso è di 0,3 deve avvenire entro 48 ore quelle sono le fonti di confusione già nella definizione cioè che la diagnosi di hacking include condizioni pre-renali senza che ci sia un danno renale vero e proprio e mi rimetto di nuovo alla prima frase alla frase iniziale che era un po' provocatoria l'oliguria effettivamente viene considerata un criterio essenziale per definire l'ACI in realtà ci sono situazioni di danno renale come la nefrite interstiziale e il danno da mioglobinuria dove in realtà l'oliguria non è presente più delle volte o meno nelle fasi iniziali l'oliguria abbiamo visto poco fa non è associata necessariamente a una patologia renale la SIAD io ho ancora messo l'ACA perché sono ancora vecchio stile però la SIAD è una condizione in cui il rene funziona benissimo ma abbiamo una condizione in cui c'è una contrazione della diuresi inoltre abbiamo visto che c'è già delle definizioni un disaccordo sull'aumento minimo della creatinemia per definire l'ACI le due classificazioni sono ancora presenti ce ne sono anche altre che entrano in competizione una con l'altra creando un po' di confusione se vogliamo l'ACI è quella più usata negli studi clinici l'unica cosa positiva che la gravità di queste delle classi di gravità di queste classificazioni corredono tutte quante con la mortalità è un po' ovvio la cosa però comunque questo è un dato che avvalora qualsiasi delle classificazioni che potremmo utilizzare sulla diagnosi di ACI vale ancora benissimo il criterio anatomico abbiamo la classica pre-renale quella renale e quella post-renale la pre-renale coinvolge circa il 30-40% delle condizioni delle condizioni di ACI e le classiche situazioni in cui si verificano delle ACI pre-renali sono appunto le situazioni di ipovolemia o di bassa agitata cardiaca oppure di shock distributivo come può avvenire nell'adsepsi per quanto riguarda la renale la fanno da padroni soprattutto la necrosi tubulare acuta e un po' meno frequentemente la nefrite interstiziale acuta il post-renale chiama subito in causa il primo approccio che dobbiamo avere per una situazione di ACI che è quello di utilizzo dell'ecografo al letto del malato quel 10% di post-renale la possiamo escludere nell'immediato quando ci accorgiamo che un paziente ha contratto la diuresi o ci siamo accorti che i valori di creatinine mia stanno salendo dobbiamo solo ricordare è facilmente riconoscibile un'ostruzione eventualmente dell'uretra con un globo vescicale legato o a una presenza di ipertrofia prostatica o altro possiamo facilmente non ci vuole un grosso schile ecografico a individuare un'idronefrosi bilaterale ricordiamo che la monolaterale può provocare un ACI soltanto se il paziente è monorene viceversa quando abbiamo una situazione di un calcolo piantato al fondo di un uretere i rischi di ACI sono veramente limitati oppure potremmo anche fare delle diagnosi alternative come nel caso di una ascite posizionando il catetere si può osservare come la ascite che può essere a sua volta una causa di ACI escludere quindi la causa post-renale più difficile secondo me bisogna stare un po' più bravi a cercare di individuare una diagnosi differenziale tra pre-renale e renale utilizzando l'ecografia o meglio ci vuole un pochettino più di abilità ecografica per otto potrebbe insegnarci noi sappiamo che la corticale del rene possiamo avere come dato generale è isoecogena o lievemente ipoecogena rispetto al parenchima epatico e splenico se uno si fissa l'immagine di un rene in ecografia normale può facendo un'ecografia al letto del malato individuare una situazione in cui il rene non è proprio più normale a sinistra vediamo una nefrite lupica in cui la corticale è diventata iperecogena quindi non è più si differenzia dal parenchima epatico ovviamente si parla di un parenchima epatico sano perché ci sono anche questi inconvenienti nei nostri pazienti oppure può individuare un'insufficienza renale cronica dove corticale midollare sono assottigliatissime oppure nella parte a sinistra una necrosi tubulare acuta in una mioglobinuria dove la corticale è diventata ancora più iperecogena e si differenzia in modo netto con la midollare e il rene appare anche più rigonfio rispetto al normale se però non siamo bravi a usare l'ecografia difficile che ormai è diventata uno strumento indispensabile alla portata di tutti gli internisti il laboratorio ci può già anche un po' aiutare nella diagnosi differenziale quando abbiamo una situazione di ipovolemia cosa succede? che il rene cerca di riassorbire sodio quindi noi nelle urine potremmo trovare poco sodio e quindi un valore al di sotto dei 20.000 equivalenti può essere suggestivo di un disordine prerenale viceversa quando l'ipovolemia e quindi l'ischemia al rene oppure quando la patologia è direttamente renale in partenza i tubuli non sono più in grado di riassorbire sodio quindi nelle urine possiamo trovarne di più tuttavia se noi stiamo somministrando dei diuretici questo valore può essere falsato quindi forse questo potrebbe anche non essere molto utile un po' più utile è l'escrizione frazionale di sodio che non è altro che il rapporto tra la clearance del sodio e la clearance della creatinina al di sotto dell'1% sono condizioni prerenali al di sopra del 2% sono condizioni post-renali quindi intra-renali anche questo valore però è inficiato dalla somministrazione di diuretici che praticamente tutti i nostri pazienti assumono lo stesso principio eseguito nella frazione escrezionale dell'urea quindi segue lo stesso principio quindi la clearance dell'urea rapportata alla clearance della creatinina è un valore che può permettere al di sotto del 35% di utilizzare un disordine prerenale e soprattutto non risente della terapia diuretica e quindi questo può essere uno dei parametri che noi possiamo utilizzare in poco tempo per individuare per fare una diagnosi differenziale ma quello ancora che dà più soddisfazioni ed è anche quello più facile da ottenere è che quando ci chiediamo se abbiamo di fronte un paziente ipovolemico abbiamo che il peso specifico urinario al di sopra di 1020 ha un valore predittivo positivo elevatissimo e a me piace sempre fare il giochino della probabilità pre-test e post-test noi supponendo che statisticamente di fronte a un ACHI abbiamo un 20% di probabilità che possa trattarsi di un'ipovolemia con un peso specifico urinario del 1020 arriviamo a una probabilità post-test del 73% e quindi possiamo abbastanza avere un supporto nella nostra diagnosi ma ancora meglio è il likelihood ratio negativo che se non abbiamo un peso specifico così elevato possiamo escludere con buona ragione la situazione pre-renale una delle cose che facciamo spesso al letto di matto lo faccio anch'io è quello di vedere se la cute si solleva in pliche e che il likelihood ratio ha non ha un likelihood ratio molto elevato dal 20% passiamo al 47% se troviamo la cute anelastica con un mancato ritorno e se per caso invece non lo troviamo abbiamo però una buona possibilità per escludere la presenza di una disidratazione ossia una probabilità post-test del 7% però talzerebbe la mano e dice ma l'ecografia non la usi certo che la usiamo l'ecografia ha un valore predittivo positivo elevato ci porta la nostra probabilità post-test al 69% ma quello che non fa l'ecografia quando noi andiamo a valutare il collassamento maggiore del 40% in ispirazione come dato positivo per individuare un'ipovolemia quando non è presente abbiamo solo una probabilità post-test che scende di 5 punti percentuale perché esistono situazioni di ipovolemia in cui la menacava rimane distesa che sono tutte le condizioni in cui c'è un'impertensione polmonare o banalmente in uno stato nasarcatico anche un versamento pericardico come trattiamo l'ACI quando ce ne accorgiamo e quando l'abbiamo individuata avevo messo la foto di Dr. House mio figlio mi ha detto che sono un boomer e mi ha fatto mettere questa qua che è più moderna prima di tutto abbiamo detto che l'ACI si inserisce in un contesto di una patologia generale cioè una patologia sistemica per cui ovviamente curare bene il good doctor cura bene la patologia che sta alle spalle dell'ACI se è una sepsi se è una insufficienza cardiaca si va a trattare quello ovviamente sappiamo tutti che esistono farmaci nefrotossici se sono presenti vanno immediatamente sospesi e poi la prima cosa che possiamo fare nell'immediato è quello che può avere un riscontro anche oggettivo nell'immediato è quello della somministrazione di liquidi togliamoci subito il problema dei farmaci li conosciamo tutti i FANS gli acinibitori i Sartani tra gli antibiotici i più famosi sono gli amminoglicosidi ed altri non sto a elencare tutti perché tanto li troviamo su qualsiasi libro e probabilmente li conosciamo anche tutti ma qui c'è come vado a infondere i liquidi e uso la parola liquidi in modo molto generico volontariamente forse non è molto scientifico ma ha un perché la somministrazione di liquidi va fatta immediatamente finché non si esclude una causa pre-renale se ne danno dai 500 ai 1000 in 30 minuti evitando eccessivi volumi perché l'incremento della pressione addominale legata a un sovraccarico di liquidi può peggiorare l'ACCHI questo è ben documentato e soprattutto perché una terapia aggressiva con i liquidi rispetto a un approccio più restrittivo non aumenta l'output urinario e provoca soltanto quindi dei danni inoltre non vanno dati ancora i diuretici in questa fase qua se non abbiamo escluso una causa pre-renale quale liquido per questo ho usato la parola liquida forse per sapere con cosa ci accompagniamo alla cena di stasera qui probabilmente avremmo già la risposta scontata e se lo sono chiesti anche però per quanto riguarda l'ACCHI alcuni autori colloidi o cristalloidi interessa al rene la risposta è sì fondamentalmente si sa che ad esempio i colloidi in particolare l'amido idrossetile e le gelatine hanno una possibile se non probabile nefrotossicità tanto più che vengono controindicate assolutamente nei trapiantati renali in questa review del 2017 si parla si consiglia di utilizzare il ringer lattato rispetto alla soluzione fisiologica anche quando contiene del potassio perché la soluzione fisiologica sembrerebbe essere dannosa perché la soluzione fisiologica provoca un'acidosi metabolica ipercloremica che avrebbe dei risentimenti a livello dell'arterio lafferente una riduzione della perfusione splagnica e una riduzione del GFR una piccola parentesi su come la soluzione fisiologica provoca un'acidosi perché noi usiamo una fisiologica che sembra effettivamente neutros per capirlo ci rifacciamo all'interpretazione di Stewart dell'equilibrio acido-base è un modo alternativo di leggere l'equilibrio acido-base che abbiamo imparato a scuola all'università si basa sostanzialmente sul principio dell'elettroneutralità nel plasma ossia il numero di cationi è uguale al numero di anioni e la differenza tra il catione più presentato che è il sodio e l'anione più rappresentato che è il cloro prende il nome di strong ion difference che vuol dire la differenza degli ioni forti che ha un valore di circa 35-40 quando io metto nel plasma che ha queste concentrazioni di sodio e di cloro dove sono presenti in diciamo elettroneutralità anche degli ioni idrogeno e degli idrossiglioni aggiungiamo della soluzione fisiologica che vedete che è equimolare per quanto riguarda il sodio e il potassio il sodio e il cloro il plasma il sodio e il cloro cambiano le loro concentrazioni ma quella che aumenta di più è il cloro riducendo questa strong ion difference cosa succede? vuol dire che il cloro è aumentato e per mantenere l'elettroneutralità che cosa deve fare il nostro sistema? o fa scendere gli idrossiglioni o fa aumentare gli idrogenioni provocando un'acidosi metabolica ed è proprio vero che anche nella realtà negli studi quando do soluzione salina il cloro sale molto di più del sodio piccola parentesi a confondere poi tutte queste idee non la soluzione fisiologica meglio ringer tutto quanto questo recentissimo lavoro apparso su New England dove si valutano nella prevenzione in questo caso dell'ACI diversi tipi di soluzioni si è visto che l'utilizzo della soluzione salina fisiologica o del ringer lattato o di una soluzione multi elettrolitica tamponata non ha nessun impatto sull'insorgenza dell'ACI per cui diciamo che alla domanda dico ancora due parole sull'albumina perché tra i colloidi c'è anche l'albumina l'albumina diciamo che è naturale e è sicuro non fa danni però non c'è nessuna differenza sulla progressione verso la dialisi o l'ultrafiltrazione rispetto alla soluzione fisiologica trova una sua indicazione come sappiamo tutti nel paziente cirrotico quindi nel trattamento della sindrome epatorenale che è un'ACI anche quella ma quindi ha un ruolo un pochettino suo particolare quindi alla risposta di quale è liquido se diamo un semaforo rosso per i colloidi come l'amido idrossietile e le gelatine diamo un semaforo giallo all'albumina se tutto anche poi tutte le politiche delle aziende sull'albumina sparing come concetto si possiamo dare come consiglio quello di utilizzare sì dei cristalloidi tamponati soprattutto che vengano dati a basso volume quindi non incrementare non esagerare col volume perché perché si può andare ah no qual è l'obiettivo di questo nostro trattamento con i liquido è quello di raggiungere una pressione media di 65 mm di mercurio che è il cardine un po' del trattamento dello shock questo perché dopo i 65 mm di mercurio di pressione media il flusso a livello degli organi splagnici scende drammaticamente nel rene è ancora più sensibile a questo problema rispetto ad altri organi perché la normale autoregolazione del filtrato glomerulare già inizia a risentire di una discesa già a 80 mm di mercurio di pressione media parliamo di pressione media e in situazioni come vedete a sinistra che sono le classiche situazioni che abbiamo nei nostri reparti questa autoregolazione non funziona come dovrebbe per cui inizia ad avere un danno sul rene già a pressioni medie che noi consideriamo normali e molto spesso questo porta a non accorgersi di un problema che abbiamo sotto gli occhi noi misuriamo la pressione ai pazienti non abbiamo metodi invasivi per individuare variazioni in continuo della pressione e questo sistema a volte ci impedisce di individuare il paziente che sta declinando verso una ACHI ecco quello che noi dobbiamo prevenire però quando abbiamo i liquidi è il sovraccarico di liquidi il sovraccarico di liquidi correla a un aumento della mortalità a 30 giorni e quando questo carico è eccessivo cosa pensiamo al diuretico la furosemide nell'ACI va usata sono necessarie alte dosi nell'ACI soprattutto quando abbiamo dei filtrati glomerolari molto bassi 200 mg tramite furosemide a volte ne diamo di più ma in realtà è una dose sealing dicono gli inglesi quindi non serve darne tanto di più non ci sono evidenze che l'infusione a dosi refratte sia meglio della continua e viceversa può essere utile l'uso concomitante di un farmaco come il metolazone che facilita l'escrezione di sodio quando la risposta non è immediata gli studi sono un po' contrastanti sull'efficacia della furosemide perché fino a po' di anni fa si diceva che non avevano nessun beneficio e quindi in teoria non erano neanche da somministrare una ultima meta-analisi su un grosso numero di pazienti 14.000 pazienti che non avevano ricevuto diuretici nelle 48 ore precedenti come poi della mortalità ha notato che l'uso del diuretico poteva avere un beneficio sulla mortalità se usato nelle prime fasi dell'ACI quindi nella classificazione meno grave l'unico punto dove invece non funzionavano ma addirittura potevano essere dannose è quando noi trattavamo con i diuretici un'ACI che si inseriva su una insufficienza renale cronica in questi pazienti come si vede qua in basso sono i pazienti che erano una riacutizzazione se vogliamo di un'insufficienza renale con la dopamina basta una diapositiva quando la dopamina a basse dosi che è stata usata per tanti anni come si vede gli effetti negativi sono decisamente più alti degli effetti positivi per cui la somministrazione di dopamina a basse dosi le dosi renali diciamo che viene considerata cattiva medicina già dal 2003 quindi ovviamente nessuno venga in mente danno di mezzo di contrasto un accenno perché con il covid abbiamo fatto un sacco di tac con mezzo di contrasto alla ricerca di queste fantomatiche embolie polmonari poi trovavamo le subsegmentarie cosa faccio la tratto o non la tratto bene l'incidenza dell'acchi da mezzo di contrasto ha un'incidenza di circa dell'8-9% compare entro 72 ore ci sono dei fattori favorenti l'uso di farmaci nefrotossici concomitanti un'insufficienza renale cronica ovviamente e una multi-failor organ si risolve per fortuna entro due settimane è raramente necessaria una renal therapy replacement sulla prevenzione quello che facciamo abitualmente serve ovviamente infusione di liquidi ovviamente l'uso di mezzi di contrasto a bassa osmolarità ha migliorato e ridotto l'incidenza di questa complicanza sui bicarbonati rimangono ancora dei dubbi anche se comunque non vengono sconsigliati ha avuto molto successo per un po' di anni fa l'N-acetilcisteina in realtà non sembra avere grossi benefici è anche vero che il basso costo e la sua innocenza innocuità probabilmente potrebbero anche essere usati ho trovato una cosa che non tutti sanno che come c'era scritto sui cruci sulla settimana in mistica non lo sapevano anch'io che sembra che la rosuvastatina abbia un ruolo protettivo nell'ambito della prevenzione del dado da mezzo di contrasto diciamo che questa è una meta analisi su dei devo dire su dei lavori in cui la somministrazione della rosuvastatina aveva diversi schemi terapeutici però sembrerebbe che la somministrazione prima e dopo di rosuvastatina possa prevenire l'acchi da mezzo di contrasto o addirittura sembra prevenire gli eventi cardiovascolari maggiori con un meccanismo sembrerebbe antinfiammatorio un po' come poteva essere quello che si presupponeva per l'enacetilicisteina ovviamente le statine possono da rabdomiolisi essere loro la causa a volte di qualche acchi accenno velocissimo per il mio avvio la conclusione sull'acchi da rabdomiolisi che succede in un terzo dei pazienti che hanno un danno muscolare acudifuso causata da un danno cellulare provocato dal ferro presente nel leme della mioglobina si diagnostica banalmente facendo una richiesta dell'ECK la mioglobina si può anche escludere basta l'ECK quando c'è un'anamnesi suggestiva e anche nel monitoraggio oppure se siamo proprio spiazzati non abbiamo il laboratorio fare uno stick delle urine positivo per sangue e qualcuno che ti guarda al sedimento non vede un'elettrocita quella la diagnosi è fatta perché la mioglobina reagisce con i reattivi delle striscette il trattamento è quello che facciamo anche tutti non c'è niente di nuovo un trattamento con infusione di liquidi cristalloidi ovviamente si provveda ad alcaninizzare le urine che impedisce tende a impedire l'impilamento della mioglobina all'interno dei tubuli non più il mannitolo e neanche i diuretici a meno che il diuretico ci accorgiamo che il paziente sta ricevendo più liquidi di quelli che sta eliminando perché ricordiamoci in questi casi non abbiamo liguria e la diuresi spesso viene mantenuta velocissimo quali sono le indicazioni in un ACHI a richiamare il nefrologo per poter iniziare una terapia sostitutiva quando c'è un sovraccarico di volume evidente che resiste alla terapia diuretica il paziente inizia a respirare male sentiamo fischiare il paziente ma quello è l'asma cardiaco perché si sta congestionando con l'ecografia possiamo valutare la presenza di linee B insomma quando ci ricorgiamo che il paziente sta andando in predema polmonare quando c'è un'ipercaliemia pericolosa quando individuiamo già sull'elettrocardiogramma alcuni estigma dell'ipercaliemia o un'acidosi metabolica refrattaria oppure quando è necessario rimuovere delle tossine i take-home messages non ce ne sono cose molto sicure nella gestione dell'ACI i criteri diagnostici non sono sempre sicuri se vogliamo dal punto di vista clinico e pratico il peso specifico urinario facilmente ottenibile in pochi secondi oppure le variazioni della vena cava durante gli atti respiratori sono utili nella diagnosi differenziale e ci possono aiutare ovviamente insieme al quadro clinico generale a capire a cosa siamo di fronte i cristalloidi vanno dati subito e a dosi moderate i diuretici sono efficaci solo nelle acchi renali non severe e soprattutto non usiamo colloidi e non usiamo dopamina grazie per l'attenzione grazie Luca per la completezza e la chiarezza dell'esposizione introdurrei subito l'ultimo relatore della sessione che è stato già ampiamente introdotto nella relazione precedente urgentista non pentito Massimo Perotto della medicina d'urgenza di questo ospedale ci parlerà del paziente in coma grazie Enrico grazie Fulvio per l'invito lo ringrazio un po' meno per l'argomento ma va bene essendo l'ultimo della giornata siamo in tema paziente in coma non ho conflitti di interesse per renderla un pochino più semplice e meno pesante ho provato a pensare a quello che potrebbe capitarci o che ci capita costantemente quando siamo di guardia in reparto che più o meno alle 6 del pomeriggio ti mancano due ore non vedi la fine ti squilla il deck ti dicono dottore il paziente è strano primo pensiero è che i pazienti sono tutti strani e il secondo pensiero gli chiedi qualcosa in più e ti dicono che è confuso da alcuni minuti che ha vomitato quelle descrizioni che anche ci fanno innervosire un po' l'infermiera ha preso i parametri 180 su 100 la moglie è preoccupata vogliono il medico adesso risponde poco se non viene stimolato poi si addormenta poi si risponde vabbè Sergio ha 78 anni un paziente ricoverato in medicina simile a molti altri che proviene da una struttura il DNA ricoverato per una sepsi in sospetta infezioni viurinarie perché era in una struttura in seguito ad una frattura di femore e poi parte il curriculum tipico quindi iperteso all'insufficienza renale cronica alla BPCO all'epatopatia alcolica perché anche quella ci sta finalmente c'è l'ectasia dell'arteria basilare senza successivi follow up guardalo lì quindi ha avuto l'alterazione dello stato di coscienza ci sta bene e quindi io mi lancierei su quello il paziente soporoso in parte letargico a tratti confuso pupille non ci dicono nulla di particolare e il glausgo è di 11 nel senso che ha un'apertura degli occhi e una risposta motoria allo stimolo e una risposta verbale particolarmente confusa quindi vabbè organizziamo l'attac rapidamente e forse ce la togliamo in fretta peccato che l'attac non dice nulla cioè il paziente non ha segni di sanguinamento per fortuna sua non ha segni di lesioni o di massa a livello cerebrale la struttura della linea mediana sono in asse i ventricoli sono compatibili con l'età quindi sono le 6.30 e dobbiamo cominciare tutto da capo perché la patologia su cui ci eravamo imbeccati un po' di più non è quella riscontrata da capo cosa vuol dire che se noi consideriamo un attimino che cosa vuol dire coma e riprendiamo la definizione storica di Plum & Posner che erano due neurologi di inizio novecento che avevano lavorato molto sul coma vegetativo e sulla locking syndrome definivano come coma una condizione abbastanza aspecifica di alterazione della risposta del paziente nei confronti dei determinati stimoli o talvolta anche una mancanza di risposta proprio totale del paziente a determinati stimoli esterni quindi il paziente poteva essere con una comprimissione moderata oppure un paziente davvero non responsivo bene che cos'è quindi il coma è una patologia che si presenta con una relativa frequenza e rappresenta dal 3 al 5% delle cause di accesso in media in pronto soccorso e cercando di identificare dove può essere nell'ambito di questo tipo di patologia il nostro problema riprendendo proprio su queste due righe un concetto generale che è quello sullo stato di veglio e di allerta ci ricordiamo l'avevamo studiato che in realtà il sistema di veglio e di allerta si basa su due strutture fondamentali uno è il RAS cioè il sistema reticolare attivatore ascendente che è un network molto complesso di neuroni che si mette in comunicazione con talamo ipotalamo poi con la corteccia e dagli emisferi cerebrali certo noi potremmo anche avere uno stato di coma dovuto ad un danno a livello degli emisferi cerebrali però tendenzialmente dovremmo avere o un danno che coinvolge gli entrambi entrambi gli emisferi cerebrali oppure un danno anche solo su un emisfero ma di entità tale da dare anche una compromissione del controlaterale e da dove partiamo partiamo tendenzialmente dalla storia clinica dobbiamo farci un'idea di questo malato e dobbiamo cercare di indirizzare un pochino la nostra strada perché se andiamo ad analizzare le cause di coma di un paziente ne troviamo più di un centinaio circa e quindi diventa tutto particolarmente complesso allora vediamo come possiamo provare a restringere un pochino il campo e quindi partiamo indagando sulle recenti condizioni di salute che hanno portato il nostro paziente o in pronto soccorso o ad essere ricoverato chiediamoci rapidamente se il paziente ha avuto un trauma o no chiediamocelo in tutti i pazienti e i due momenti fondamentali su cui dobbiamo soffermarci sono le ultime 48 ore o le ultime 4-6 settimane cioè è caduto recentemente dal letto dalla barello a casa negli ultimi due giorni sì no oppure è avuto una caduta recente nell'ultimo mese e mezzo che ci faccia pensare eventuali subdurali utilizza in modo continuo o abusa di alcol o droghe ha mai avuto o ha una storia di epilessia e poi sono presenti malattie croniche quindi quelle che abbiamo già detto il diabete insufficienza renale insufficienza cardiaca ecco queste 4-5 domande dovremmo farcele un pochino su tutti i pazienti e in teoria dovrebbero aiutarci aiutarci poi a che cosa scegliere una strada perché su questi tipi di pazienti ci troviamo spesso di fronte a un bivio quindi TAC sì TAC no TAC subito TAC dopo neurologo sì neurologo no quali esami subito e quali dopo e a volte se imbocchiamo come ho fatto io nel primo caso per la fretta e ho letto rapidamente l'anamnesi e ho portato il paziente subito immediatamente in TAC in effetti non era poi forse la strada così corretta da seguire non dobbiamo dimenticarci che la maggior parte delle raccomandazioni ci ricorda esattamente questo cioè che di fronte a qualunque situazione di emergenza urgenza il più possibile soprattutto di fronte alle patologie complesse quali può essere il coma un medico dovrebbe avere un suo algoritmo decisionale che ci consenta di sbagliare strada almeno possibile e quindi la regola aura per chiunque lavora in un setting di urgenza o di emergenza o fa la guardia in reparto dovrebbe proprio essere quella cioè prima di cercare l'eziologia del coma diventa fondamentale stabilizzare le funzioni vitali del paziente e cosa vuol dire stabilizzare le funzioni vitali vuol dire ripartire dalle basi dalle cose più semplici cioè partiamo dall'ABC assicuriamoci che il paziente abbia un accesso venoso valido rileviamo la temperatura e sempre la glicemia i parametri vitali sono fondamentali non dimentichiamoci questi due cioè temperatura e glicemia che nell'approcciare un paziente in coma acquisiscono ancora più importanza se il paziente ha conati di vomito o ha vomitato pensiamo a posizionarli rapidamente un sondino naso gastrico perché in compromissione stato di coscienza potrebbe esserci un'alterazione sulla protezione delle vie aere e poi rapidamente un quick look una valutazione molto rapida se il paziente si sta deteriorando rapidamente e il Glasgow è inferiore a 8 allora consideriamo coi colleghi della terapia intensiva un'intubazione precoce questo che vi ho detto in realtà non è che poi me lo sono inventato ma semplicemente l'ho preso da alcune raccomandazioni scientifiche presenti in letteratura io vi ho riportato una review questa pubblicata sul Lancet nel 2014 particolarmente interessante che vedete ha come incipit proprio quello che vi ho detto cioè di fronte ad una situazione di urgenza come il coma ogni medico deve crearsi un proprio algoritmo decisionale proprio per evitare di sbagliare strada e ci aiuta ancora da un punto di vista potremmo dire così didattico dicendo che di fronte a un paziente in coma noi dovremmo considerare innanzitutto tre grandi meccanismi che possono stare alla base del coma sottostante e questi tre lui identifica praticamente con la presenza di un danno o di una lesione strutturale quindi prima grande categoria di patologie sottostanti la presenza invece di una disfunzione diffusa neuronale e un terzo gruppo che sono invece il gruppo delle patologie psichiatriche che lui consiglia quasi di non dico non considerare ma considerare il meno possibile uno perché non sono così frequenti e sono quelle che forse mettono meno rischio di vita al nostro paziente e quindi che cosa ci consiglia di stampare bene in mente i due gruppi più importanti cioè quelli caratterizzati da un danno strutturale e quelli caratterizzati da una disfunzione neuronale diffusa e di provare a ragionare se uno avesse in tasca questa tabella di etichettare il nostro paziente con una certa probabilità verso alcune di queste patologie se vedete nella prima tabella ci sono quelle a cui pensiamo maggiormente e forse anche quelle più semplici tra virgolette da identificare cioè la presenza di lesioni occupanti spazio le lesioni schemiche e o le lesioni emorragiche nel secondo gruppo troviamo invece tutto il gruppo di patologie che potremmo per così dire attacca negativa cioè quelle che richiedono uno sforzo diagnostico maggiore quindi davvero richiedono ripercorrere quella che è la patologia del paziente ripercorrere determinati tipi di esami o di condizioni e quindi tutte le cause per intenderci tossiche metaboliche alterazioni elettrolitiche e così via che sono state anche già illustrate dai miei colleghi precedenti ok quindi abbiamo tutto questo gruppo di patologie e dobbiamo cercare uno di ricordarcele due di associare il nostro paziente con alcune di queste agli urgentisti piacciono abbastanza gli acronimi perché ti aiutano ricordare un pochino le cose e in letteratura compare questo TIPS for IAU che sono praticamente i suggerimenti dati dalle vocali semplicemente TIPS sta per T traumi o tumori ipoglicemia o ischemia quindi alterazioni sostanzialmente di zucchero glucosio scusate di zucchero ossigeno a livello cerebrale P per avvelenamenti dall'inglese poisoning S per shock cioè bassa portata per intenderci il paziente scioccato in genere che ha un'ipoperfusione cerebrale con le vocali A e U abbiamo l'abuso di alcol o di sostanze in genere l'epilessia le infezioni l'utilizzo o il sovradosaggio di oppiacei e poi le condizioni uremiche quindi la insufficienza renale e se poi cerchiamo di scremare ancora di più e dire vabbè basiamoci giustamente anche sull'epidemiologia ce ne sarà qualcuna che è più frequente di altre perché è ovvio che l'uremia non sarà frequente allo stesso modo del trauma allora l'epidemiologia io ve l'ho già scremata e ci dice che tendenzialmente le quattro più frequenti dovrebbero essere queste quindi le cause ipoglicemiche e schemiche l'intossicazione da sostanze o gli effetti iatrogeni in genere l'epilessia e le infezioni allora nel nostro modello dobbiamo ancora ragionare un pochino su cosa possiamo ragionare sicuramente quello che ci consigliano di fare è di ragionare sui tempi di esordio o su un fattore che è il fattore tempo quello che in urgenza fa sempre paura in realtà in questo caso ci viene amico perché il tempo di presentazione di una certa patologia è ciò che ci consente di escludere oppure di confermare alcuni sospetti diagnostici è ovvio tendenzialmente una patologia come lo stroke o le crisi comiziali o il sovradosaggio da farmaci avrà un esordio abbastanza improvviso generalmente le patologie tumorali o le patologie infiammatorie in genere tendono ad avere delle manifestazioni patologiche un pochino più graduali senza dimenticare la storia di neoplasia in anamnesi molto importante per il sospetto di lesioni secondarie la storia di diatesi emorragiche o comunque alterazioni coagulative per non incappare in difficoltà di diagnosi patologie emorragiche trombosi dei seni e così via aggiungiamo però un pochino di clinica intanto qualunque collega che andremo a chiamare che sia il neurologo o l'intensivista in urgenza ci chiederà una cosa cioè ma questo paziente soporoso stupor sonnolente risvegliabile dobbiamo in qualche modo etichettarlo etichettarlo e tutti ci chiedono ma hai fatto sto Glasgow quant'è? 5, 7, 10, 12 devo venire subito devo venire dopo il Glasgow continua a essere molto utilizzato è stato diciamo così utilizzato a partire dagli anni 75 e ricordiamoci che non è stato utilizzato per etichettare questi tipi di pazienti ma è stato utilizzato in neurochirurgia come monitoraggio neanche come diagnosi per i pazienti operati in realtà noi lo stiamo utilizzando comunemente perché ci consente con un numero di andare a incasellare meglio il nostro soggetto è ovvio che nel momento in cui lo usiamo dobbiamo anche considerare quelli che sono gli eventuali pitfall e uno tra tutti è rappresentato dalla scarsa affidabilità diagnostica o meglio gli studi ci dicono che se noi consideriamo un paziente e facciamo calcolare il Glasgow da due medici nel 30% dei casi avranno un Glasgow differente di almeno due punti voi capite che 8 è un conto 10 è totalmente un altro e non è quindi una percentuale così bassa ma ancora quando noi dobbiamo trasferire un malato parliamo con i neurochirurghi ma hai fatto questo Glasgow sì quant'è? 4 e allora il paziente è morto di solito ti rispondono più o meno così peccato che la letteratura ci dice occhio però perché i vari elementi che noi vediamo quei tre elementi non contano tutti allo stesso modo cioè se il nostro paziente ha un Glasgow di 4 ma il valore 2 noi lo diamo all'apertura degli occhi al dolore lui avrà una mortalità del 48% ma se lo stesso valore di 4 noi il punto 2 non lo diamo agli occhi ma alla risposta motoria a quel punto lì la mortalità scenderà al 12% quindi capite che di per sé è giusto utilizzarlo in urgenza è sicuramente un dato oggettivo ma dobbiamo prenderlo con le pinze e sapere che cosa stiamo utilizzando il Covid ce l'ha insegnato che lo sguardo importante gli occhi sono fondamentali e soprattutto nella valutazione del paziente neurologico perché è proprio la nostra estroflessione del sistema nervoso centrale cosa possiamo ricavare rapidamente dagli occhi del malato innanzitutto se ci sono delle alterazioni quelle che conosciamo miosi o midriasi ma soprattutto vedere se queste alterazioni sono bilaterali o monolaterali perché è ovvio che le alterazioni bilaterali sia esse in miosi o in midriasi nasconderanno sempre delle patologie che coinvolgeranno gli emisferi cerebrali quindi patologie tossiche patologie dismetaboliche alterazioni ioniche e così via mentre le alterazioni pupillari monolaterali faranno sempre pensare a lesioni occupanti spazio pensate alla miosi monolaterale nell'orner o alla midriasi monolaterale nella classica emorragia col danno sul terzo nervo sull'oculo motore aggiungiamo degli esami quello sicuramente ce ne sono alcuni più importanti di altri forse sì in ogni caso la batteria standard che viene consigliata è questa glicemia creatinina sodiemia calcemia ammonio tsh emogas analisi e tox lasciando stare l'emocromo che ovviamente lo facciamo su tutti i malati pochi di questi ci danno delle informazioni in urgenza che ci possono cambiare l'iter terapeutico nell'arco della prima ora ma sicuramente la prima e l'ultima la glicemia e i tossici quelli sicuramente uno per la somministrazione di glucosio e l'ultima per la somministrazione di eventuali antidoti per quanto riguarda invece la diagnostica abbiamo diverse armi a disposizione la tag del cranio la risonanza l'elettroencefalo è ovvio che la tag del cranio è quella che utilizziamo più comunemente uno perché è più disponibile ed è più semplice sottoporre i nostri malati ricordandoci che ha una buona sensibilità per il sangue diciamo in modo molto volgare identifica il 95% degli ESA e quasi il 99% in generale se consideriamo tutte le emorragie intracerebrali la risonanza è ovvio che è più difficile da diciamo così da somministrare al nostro paziente ci può dare delle informazioni aggiuntive quali tra tutte principalmente innanzitutto la press o forme ad esempio di ischemia cerebrale in fase acuta e poi l'elettroencefalogramma che ovviamente in accordo con i neurologi spesso viene utilizzato ovvio quando abbiamo già escluso spesso altre cause e quindi è giusto anche fare una valutazione elettroencefalografica questo è semplicemente una flowchart che viene raccomandata sull'utilizzo della TAC che non deve essere come ho fatto io nel paziente l'esame fatto in prima battuta ma l'esame fatto nel paziente in cui ho sospetto che ci possa essere un danno a livello cerebrale TAC identificabile o quando ho già escluso eventuali situazioni esempio ipoglicemia o intossicazioni da farmaci in cui sicuramente la TAC non viene considerata non deve essere considerata o utilizzata questo poi che vi ho detto in realtà viene in parte ripreso anche dalle linee guida quelle europee sulla gestione del paziente in coma del 2020 e facendo semplicemente una rapida carrellata su quelli che possono essere i farmaci che utilizziamo in guardia nella prima ora su un paziente in coma sicuramente liquidi ossigeno perché abbiamo detto le prime cause di coma se rivedete nella TIPS la I era l'ischemia e l'ipoglicemia quindi liquidi e glucosio ma non somministrati a caso ma nel paziente in cui c'è un forte sospetto clinico o la misurazione di una glicemia ridotta la tiamina nel paziente in cui abbiamo un sospetto carenziale un potus importante cui insospettiamo l'encefalopatia divernica quindi la classica una fiala parenterale i classici antidoti molto utilizzati in passato ancora ora si utilizzano ma viene consigliato di utilizzarli un pochino più con criterio cioè quando c'è davvero un sospetto clinico flumazenil enaloxone per intenderci gli antibiotici nel paziente con stato di coma e febbre di presentazione e poi ancora gli antipiretici perché come sappiamo il paziente anziano basta in effetti una temperatura superiore a 38 in cui l'alterazione dello stato di coscienza è più che giustificato non vi annoio ulteriormente chiuderei solo con alcuni concetti fondamentali che possono essere utili a tutti il coma ricordiamoci che è un sintomo e non è una diagnosi quella è la cosa più importante cioè mentre conduciamo il nostro processo diagnostico bisogna sempre assicurare il controllo delle funzioni vitali quello non dimentichiamocelo perché un paziente entra in coma quindi abbiamo detto ci deve essere un danno o a livello delle rasse cioè della sostanza reticolare attivatrice ascendente o di ambedue gli emisferi cerebrali la raccolta dell'anamnesi e la raccolta dei familiari del testimoni è importante per la diagnosi così come la valutazione della modalità e dei tempi di insorgenza la glicemia e il tossicologico mirato sono tra le indagini con un elevato potere diagnostico nella prima ora l'attac del cranio senza mezzo consente di escludere o di confermare le emorragie cerebrali e in generale lesioni occupanti spazio e l'elettroencefalo può svelare uno stato di male epilettico non convulsivo e per ultimo glucosio naloxone flumazza e l'eltiamina non devono essere somministrati a tutti i pazienti ma sicuramente in modo precoce quando c'è o un elevato sospetto clinico un quadro clinico compatibile non vi vedo così per cui sono già contento vi ringrazio per l'attenzione grazie Massimo direi che adesso passiamo la parola al nostro discussant alla dottoressa Elena Migliore della medicina interna di Cuneo dell'ospedale Santa Croce di Cuneo e alla dottoressa Elena Maggio della medicina interna di Alba tutte e due con loro abbiamo condiviso anche alcuni anni di lavoro insieme a Cuneo grazie ma una domanda veloce a Michele hai detto dell'Urea che va di moda ci sono dei dati di efficacia e quali indicazioni ha in realtà sta tornando di moda perché una volta veniva utilizzata per il suo effetto chiaramente potentemente osmotico ci sono dei dati in letteratura anche relativamente recenti che in alcuni determinati setting ovviamente non del setting dell'acuto eccetera possono contribuire insieme a un'adeguata restrizione idrica ad una correzione che però richiede comunque ovviamente un controllo seriato della sodiumia perché non è misurabile come il calcolo preciso ovviamente della correzione elettrolitica attraverso la somministrazione di sodio però sono dati e viene utilizzata può venire utilizzata è un integratore alimentare sostanzialmente ci sono crescenti dati sul suo utilizzo grazie a tutti e tre relazioni bellissime chiare e molto utili per il taglio pratico due domande rapidissime proprio secche una al dottor Dutto mi sembra di aver colto che in una delle tue slide iniziali tu abbia detto che nell'Achi l'emofiltrazione non ha in nessun modo migliorato quella che è la mortalità di questi pazienti ci puoi dare una spiegazione il perché di questo dato a Massimo Perotto hai volato sull'elettroencefalogramma volevo chiederti se potevi darci due indicazioni sul ruolo proprio dell'elettroencefalogramma oltre che nel coma del paziente epilettico quale può essere il ruolo di questo esame strumentale grazie grazie per la domanda è vero l'ho buttata lì ed è un dato che mi ha sorpreso anche a me questo qua quello che succede nella nostra mente quando trattiamo un'insufficienza nell'acuta è che se questa si risolve il paziente torna tra virgolette con una restituzione ad integrum in realtà il rene non ritorna proprio uguale ma non è proprio il problema ci sono un sacco di lavori che documentano che i pazienti che vanno incontro ad un acute kidney injury quindi un Achi anche soprattutto poi se vanno incontro a una terapia sostitutiva hanno degli eventi cardiovascolari maggiori nel giro di un anno ma con delle percentuali elevatissime circa 30% dei pazienti quindi io non ho una spiegazione plausibile per questa cosa penso che possa essere proprio questo il problema perché quando abbiamo un acute kidney injury c'è una liberazione di citochine che vanno hanno come organo bersaglio spesso e volentieri di sistema cardiovascolare di solito non vado nel parico anche perché non me ne ricordo tutte ma mi è capitato di leggere che provo sostanzialmente una fibrosi del mio cardio e quindi questi pazienti vanno incontro molto spesso poi a delle insufficienze cardiache che possono spiegare nella mortalità ad un anno l'aumento di queste e ospedalizzazioni che possono anche essere loro contribuire alla causa quindi credo che il problema è che un ACHI lascia degli strascichi anche quando i parametri dell'output urinario e della creatinemia rientrano nei range normali dunque sull'elettroencefalo in effetti sono andato un pochino rapido è ovvio come dice Elena al di là delle patologie comiziali le raccomandazioni ci dicono ma questo non soltanto per l'elettroencefalo ma per tutte le indagini diagnostiche ogni indagine va fatta quando ovviamente c'è un razionale o quando l'indagine ci può spostare un pochino alla diagnosi o alla terapia l'elettroencefalogramma è consigliato ovviamente in tutte le forme di encefalopatia metabolica quindi voglio dire tendenzialmente nei pazienti che hanno un'attacca negativa perché ovvio che nel paziente con esa o con lesione cerebrale probabilmente non ci cambia tanto l'iter né diagnostico né terapeutico ma in tutte le forme di intossicazione tossicometabolica sicuramente sì nei pazienti con febbra tac negativa sintomatologia specifica oltre alla puntura lombare anche ovviamente l'elettroencefalo nelle forme ad esempio di encefalite poi giustamente li diceva consideriamo che in tutti i pazienti con indagini negative con tac negativa dovremo in quel caso rifarlo perché in un paziente su dieci quel paziente lì ha uno stato di male epilettico non convulsivo che quindi non è una percentuale così bassa quindi dire queste dovrebbero essere le tre categorie più posso beh intanto complimenti i tre relatori perché sono stati estremamente chiari su argomenti difficilissimi volevo fare un piccolo commento alla relazione di Luca Dutto e penso che tu condividerai la somministrazione di liquidi nel paziente con insufficienza pre-renale o non ancora diagnosticata quantità limitata precoce e direi a boli cioè non metti lì sulla flebo ma push e poi rivaluti e quindi semmai piccoli boli da rivalutare sulla risposta clinica in tempi abbastanza rapidi tutto qua sul libro sul polmarino che è questo libro di ICU che è in test medicine che è famoso anche un po' provocatorio in effetti si parla di boli refratti di 125 250 cc quindi si va tarandosi sulla risposta la risposta la cerchiamo sulla pressione media che è l'unico parametro che noi possiamo avere nell'immediato volevo precisarlo perché c'è un po' l'abitudine di dire mettili sulla flebo poi vengo a vederlo fra sei ore no 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 quello problema può venire un po' nei reparti covid tu eri nei tempi pre-covid no aggiungevo un piccolo commento su questa cosa che è sempre più attuale il tema della tossicità renale della congestione venosa che è il motivo per cui i nefrologi vogliono sempre il paziente liofilizzato mentre il chirurgo dopo l'intervento riempie sempre il paziente come se fosse un pesce palla insomma comunque in realtà è meglio tenerlo liofilizzato faccio un'osservazione anch'io riguardo alla relazione di Perotto il tempo è un fattore critico soprattutto di fronte al paziente in coma abbiamo visto il tempo come strumento diagnostico il tempo è anche il tempo di intervento perché se ci troviamo di fronte a un sospetto di infezione del sistema nervoso centrale e lì i tempi diventano critici quindi bassa soglia per la puntura lombare che deve essere una competenza che il medico d'urgenza ha sua e quindi precocissimo trattamento antibiotico possibilmente per mezz'ora quindi sottolineo questi aspetti che sono non secondari rispetto all'Aucam bene mi sembra di capire che la tarda ora sta conducendo alla fine questa prima giornata faccio i miei saluti i miei ringraziamenti e i complimenti a tutti i relatori e passo la parola al professor Lupia per la conclusione grazie una benedizione finale grazie a tutti per la partecipazione agli organizzatori ai relatori e finiamo penso qua i lavori giusto? take on message è questo applausi grazie grazie